Il ricercatore Ne è ormai certo Ego Balego Grosse Tutte le lande forse conosciute dall'uomo Anche oltre il sensibile Sono state avvelenate Da chi? Da cosa? Per quale scopo? Con quale metodo? Un'evidenza del genere Dovrebbe mandare tutti quanti Nello sconforto più totale Chiunque Realizzando Di essere causa del suo male Non avrebbe le forze Per rimanere in piedi Ma non l'uomo di scienza Non l'essere umano Che si è lasciato Il passato scimmiesco alle spalle Per il ricercatore Una nuova domanda Non è dolore È l'ingranaggio Che fa partire la macchina I cubi spezzati Raccontano una storia L'antico regno Di Ego Balego È stato frantumato È stato frantumato A casa nostra Oltre Le miniere Al momento Il re Lucio Non si trova più E nella notte Delle spade diamantine Uazzo Il manzo È stato il primo A morire Presto I figli del re Si sono fatti la guerra Ognuno di loro Cercando di reclamare Ciò che rimaneva Di Ego Balego La voglia di primeggiare Di tutti coloro Che rimasero Finì per avvelenare Le lande Di Grosseth Una guerra Dalla quale Nessuno Emerso E vincitore Una guerra Nella quale Purtroppo In ultima istanza Persino La nostra Ignota Divinità Ci ha Abbandonato Definitivamente E allora Adesso Risorgete Non morti Voi Che siete Sottoterra Eppure Vivete La chiamata Delle miniere Parla A tutti Voi Risorgi Lionel L'arciere Cecchino Julius Il lupo Maledetto Nicolaus Il cubetto Esplosivo Ephesio Il mangialava E in ultimo Ruslan Il costruttore Di ogni cosa E in ultimo Un ricercatore Senza No Che voleva Ripristinare L'ordine Del mondo E allora Risorgete Non morti Il mondo È finito E allora Cantiamo La superficie Cela Un grande Mistero Ego Balego Sarà Poi Tutto Vero La volontà Di primeggiare Lì Avvelenò E del re Nessuna Traccia Divinità Che ha Abbandonato Le terre La tua Fibuccia Ormai Scalfita Da guerre Riporterò La luce Per queste Colline Sono Cubi Che Si Giorgio Giorgio Io mi chiamo Montoro Sono Tu Sono Pur Riddler Cubi Che Si Era un ragazzo Poco Più Che Quindicenne Su Minecraft Ci Rimesse Le penne Costruiva Case Chiese E No Che Non Badava Spese Stava Attento Ai Golem E Pure Agli Arcieri Tira Tutto Il Legno Si Fa Come Bobo Vieri Scappa Tutta La Notte Rai Non Morti Perché Cazzo Sono Risorti Io Non Lo So Questa Verrana Stai Attento Perché Non Sei Mica Ruslan Non Puoi Ruttolare Per Queste Colline Sono Cubichessi E Un mondo Cubetti Vorrei Del Legno Signore Ne Prendo Due Etti Questa È La Mia Blind Run Di Minecraft Si Canta Sempre In Countdown Ma Non Conosco Niente Voglio La Copertina Di Charlie E Vai con Altra Sigla No Sì Invece Riddler Cubiche Sì Riddler Cubiche Sì Sì In Provincia Di Siena Sì Sì Ma Buonasera a tutti Amici Videospettatori E con un clima estivo Ma che non per questo Ci distoglie Dal salvare il mondo Benvenuti Ad un nuovo episodio Della Blind Run Di Minecraft Che bello Eh Quanto mi manca Minecraft Quando non lo facciamo E' tremendo Ma Stasera si gioca Stasera Torniamo Nello Skulk Stasera Torniamo Nelle lande Avvelenate Forse Dal re Lucio Stesso Forse Da qualche Altra Entità Ho un'idea Che mi è venuta in mente Pubblicando la storia su Instagram Di Countdown E voi mi direte Ma che cazzo sta a di questo? Che sto a di? Però è qualcosa che Non potremo fare Subito D'accordo? Quindi Ve la racconto Come idea Ma sappiate Che poi Per metterla in atto Generale Badollo Grazie mille Delle sub Grazie 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 davvero Dicevo No oggi niente 1.20 Tra poco vi spiego Perché Ho pubblicato La storia Facendomi passare L'immagine Di un sonar Di quelli Dello Skulk Se non sbaglio Si chiama proprio Sonar Non ricordo mai Il nome l'abbiamo visto Negli achievement Dovrebbe essere un sonar O qualcosa di simile Poi l'abbiamo chiamato Sensore Ok ok Sensore Grazie ragazzi Sensore Non mi ricordo i nomi E Ho scritto La roba di roleplay Del tipo Ok Il ricercatore Deve tornare Nelle terre dello Skulk Per fare i suoi conti Per fare I suoi esperimenti Per Capire effettivamente Dove si trova Qual è il segreto Del mondo Che sta esplorando E poi mi sono detto Esattamente come abbiamo fatto Per il generale Rovagnati L'unico modo Che Il ricercatore ha Per fare davvero Esperimenti e ricerche È Replicare Quegli esperimenti Questo Fa l'uomo di scienza In un luogo sicuro E Le terre dello Skulk Sono tutto Tranne che sicure Ma se io mi portassi La pala diamantina Che Fa droppare In maniera Intatta Metto emoticon only Se io portassi la pala diamantina Che fa droppare in maniera intatta La Terra che colpisco In quanto Lo Skulk si spezza praticamente con un colpo Potrei Droppare dello Skulk E se potessi droppare dello Skulk In quanto sappiamo che lo Skulk Infetta Ciò che gli sta attorno Perché questo è successo nell'ultima puntata con la pietra Potrei creare una sorta di Acquario dello Skulk a casa Sarebbe sincera Se fosse possibile E magari è qualcosa che Molti di voi non sanno Perché mi avete detto che è stato Relativamente aggiunto da poco Però Cioè Avrebbe senso E sarebbe bellissimo Anche a livello di roleplay Che il ricercatore Crea in un luogo sicuro Un Una replica dell'infezione originale Per osservare effettivamente come si propaga Quali sono le sue leggi Ma La mia paura è Se ci portiamo lo Skulk dietro E ovviamente questa è poi l'idea B Se ci portiamo lo Skulk dietro Poi evochiamo un demone sorvegliante Dentro L'area Di Ricky Cioè il demone sorvegliante Spawna in specifici punti della mappa Che poi vengono infettati dallo Skulk Oppure se tu crei una Skulk Ti porti dietro per forza di cose Anche il demone sorvegliante Che ci sta dentro Perché In questo secondo caso Non cambia Il fatto Eccoci Non cambia il fatto che io debba O voglia comunque Generare questa Scalcheria Però a quel punto ci dobbiamo mettere Una barricata intorno Un vetro sopra Ci dobbiamo ricreare E forse Lo faremo a prescindere In realtà forse Se dovesse riuscire questa cosa Ma non so se la faremo oggi Perché per farlo dobbiamo tornare a casa Non penso di avere la pala diamantina dietro Che è l'unica che fa Droppare la terra in maniera Uno a uno Con l'erba sopra Dicevo Se dovessimo riuscire a farlo Creerei a prescindere Una sorta di acquario intorno Perché Sarebbe l'unico modo Per non morire poi E non far morire Soprattutto il nostro Riki Che è l'ultimo abitante Di villaggio che ci rimane Intanto benvenuti a tutti Vi libero Vi do un piccolo trivia Vi do un piccolo trivia Che Io non so se si può fare Ma comunque bravo cazzo Che pensi al tocco di velluto PS Se vuoi la risposta Alla domanda del demone sorvegliante Il resto No 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 Non voglio No assolutamente Non mi dite niente Non mi dite niente Perché voglio la sorpresa Del se il demone si crea o no Ok Cioè sarà la cosa più bella Osservare a un certo punto Se il demone si crea o no Io non lo metto neanche in discussione Che lo scal che si droppi o meno Secondo me Se tocco di velluto esiste Esiste Proprio per situazioni come queste Di certo non per Fare il terreno o l'erbetta 5 secondi prima che l'erbetta Si crei in ogni caso L'altra volta Quando abbiamo droppato l'erbetta Abbiamo detto Ok figo Droppa l'erba full E quindi Cambia un cazzo Invece In una situazione del genere Dove è evidente che Ogni arnese Anche la pala normale Sia troppo violenta E quindi spezzi In mille pezzi Lo scalco Beh Allora Il tocco di velluto Dovrebbe fare proprio questo Comunque dicevo Un piccolo trivia Interessante Perché da commenti assurdi Vengono fuori Secondo me delle Riflessioni Carine E magari anche Si impara qualcosa in più Il genio della settimana Nel ricaricamento Dell'ultima live Ha detto che Preparatevi Non so come Non mi ricordo il nickname La dimostrazione Che Non sono in blind Preparatevi Perché questa cosa È incredibile È il fatto che In realtà Ai miei tempi Quindi come se avessi 50 anni Tra l'altro Ai miei tempi Per insonorizzare Si usavano I cartoni Delle uova E È un trivia Interessante Perché Si usavano davvero I cartoni Delle uova Ma non per Inonsonorizzare Gli studi Di registrazione Però è un trivia Molto interessante Si usavano davvero I cartoni Delle uova Però mi fa ridere Che questa persona Pensasse che Negli studi Di registrazione D'alto livello Ci fossero Le scatole Delle uova Dell'ipercop Attaccate alle pareti Si usavano davvero I cartoni Delle uova Ma Nelle sale prova Dei ragazzini Cioè Anche noi Nella nostra Sala prove Del garage Affittato Da nonna Gianna Mettevamo Con lo scotch I cartoni Delle uova Ma Lo studio Di registrazione Nel quale andavo io Che è il Virus Studio Tra l'altro Che saluto Perché è Uno studio incredibile Uno studio Che ha registrato Grandissimi artisti Se non sbaglio Anche Caparezza Ci ha fatto un brano Lì dentro Al Virus Studio Sicuramente Ce ne ha fatti Tanti Petra Magoni Che è una Cantante Che ha anche Se non sbaglio Un violoncellista Nel team O qualcosa del genere Però non mi ricordo Come si chiama lui Comunque gira sempre Con un altro musicista Ci ha fatto praticamente L'intera discografia Al Virus Studio E beh ecco Al Virus Studio Non si usavano I cartoni Delle uova E scusate se rido Ma mi fa effettivamente Ridere e pensare Che qualcuno Potesse immaginare Che dentro Gli studi D'alto livello Si potessero usare Dei mezzi Così un po' rudimentali E come dire Che Non lo so Ai miei tempi Per l'illuminazione Dei set Si utilizzavano Le lampade Beh certo Quando avevo Mille iscritti Utilizzavano Le lampade Chiara e mio fratello Per illuminarmi Ma Questo non significa Che nel 2015 Tutti usassero Le lampade Come illuminazione Dei set Però mi fa ridere Che ormai Arrivino sempre Questi Ecleptici Commentatori Con Arringhe Originali Perché credo Che il mio essere Incapace Di fare Qualsiasi cosa Su minecraft Renda complesso Giustificare Un assunto Come Non è blind E quindi Alla fine Bisogna arrivare a dire Che ai miei tempi Usavano i cartoni Delle uova Però Mi ha fatto ridere Pensare davvero Questa cosa Comunque Non morirà mai Secondo me Questa Questa roba qui Non morirà mai Non mi ricordo Che cosa Ho scoperto Di recente A livello Di teoria Del complotto Ma le teorie Del complotto Nel mondo Anche dello streaming E della content creation Ci sono sempre state Ne ho scoperta Una di recente Che mi ha fatto ridere Ma non mi viene in mente Però vi ricordate Per esempio Quando Youtube Fa cagare Doveva essere Per forza Un altro youtuber E non palesemente Uno nuovo Perché nessuno Aveva interesse Nel fare Con un alias Un canale del genere Ve lo ricordate Quando Youtube Fa cagare Era in realtà Chiunque Tranne una persona Diversa Da quelle già conosciute È stato Marco Merrino È stato Yotobi Erano tutti Tranne una persona Nuova E poi alla fine Era ovviamente Una persona nuova Perché è la cosa più ovvia Però c'erano proprio I cappellini di stagnola Che mettevano insieme i pezzi No Perché se andate Al minuto 7 Potete sentire Che in realtà La voce qui Poi la passiamo Attraverso Un complesso sistema Di leve e specchi E ci rendiamo conto Che in realtà La voce Di Yotobi C'è stato quello Quando c'è stato Il casino dei tributi Quel casino dei tributi Ricordo che la gente Andò con l'antirnino Nelle live di Moccia Aspetta però Qui hanno scherzato Sui tributi Secondo me Loro sapevano Perché in realtà Se metti la cosa In fila tu e sei Con il resto di due Si capisce Che questo commento Di Gianfranco In veri Una roba Fuori di te Sono sempre Le teorie del complotto E Vabbè Noi ne abbiamo una Più leggera Se vogliamo Che Non sono blind Però mi fa sempre Sorridere Che Mi si pensi Capace Non tanto di Fare l'attore Perché Quello è un complimento Ma di giocare due volte il gioco E comunque di fare video E comunque di fare altri streaming Che durano quattro ore A notte Io vi ringrazio Davvero C'è incredibile Che voi pensiate Che io riesca a sfruttare così bene Il mio tempo Tanto da fare un'altra run Di Minecraft Prima di ogni live Nella quale imparo il gioco E poi Magari esploro anche questa mappa E poi replico L'esplorazione A parte che palle fingere Per quattro ore di fila Assolutamente Però Al di là di quello Mi fa sorridere il fatto Che si possa pensare Una cosa del genere Fattivi Però Ho trovato il commento interessante Perché effettivamente Le Uova O meglio I cartoni delle uova Si usavano davvero Per insonorizzare Però ovviamente In delle situazioni Un po' agricolo-pastorali Mi faceva morire anche Perché questo commento Sembrava lasciare intendere Che la lana di roccia Fosse una scoperta Del mondo modernissimo Cioè che fino a Dieci anni fa Ma Non si sapeva Cosa fosse la lana di roccia Oppure Il commentatore Pensa che io abbia 70 anni In quel caso Grazie di nuovo Ai miei tempi Non c'è Lana di roccia Lana di roccia Si 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 È una sostanza urticante Sei palese Non blind Sappiamo che sei Uno speedrunner Bellissimo il cosplay Di Omori Oddio Ah si perché C'ho la canotta nera Vabbè ragazzi Inizio a c'ho caldo Quindi ho una canotta nera Cioè Abbastanza normale Io penso che Chi dice che tu Non sia blind Non intende proprio L'aver giocato E completato Minecraft Al 100% Ma esserti informato Su alcune cose Tipo mia supposizione Ma tipo Che cosa cerco Secondo te Edward Tipo per la live di stasera Cosa devo cercare Come Esplorare lo skulk Cosa cerco esattamente Come creare qualcosa Che non so che esiste In un gioco Completamente procedurale Cosa cerco Warden rule 34 Però ecco Secondo me Quando poi diventa Mezzo per raccontare Qualcos'altro È sempre figo Del resto voglio Ecco Ma certo Ma certo Mi sono ricordato Qual è l'altra teoria Del complotto È quella Della pil scriptata Eccola La pil scriptata Che ha Le rom Che cambiano L'intelligenza Artificiale A seconda Del giocatore Una roba Che neanche Asia Onuma Potrebbe fare Me la so ricordata Sì 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 Se tu vai a vedere Gli allenatori Sono più stupidi Con alcuni creator E altri invece Vengono trattati a pesci In faccia Da Gennaro Bull Una roba che davvero Se in Game Freak Vabbè Game Freak Non è l'esempio giusto Se in Nintendo La volessero fare Sarebbe un casino Cioè Every Mario 64 copy Is personalized È un meme È un meme È una creepypasta Perché non si può fare E invece Every copy Of the pill Is personalized Ragazzi Ce l'hanno fatta Quelli della Matrix Ce l'hanno fatta Hanno personalizzato Tutte le copie Insomma È bello Che ci siano sempre Queste Queste strambe Pazze teorie Però Sardonia Script Lerone di Minecraft Every copy Of the pill Is personalized Ancora Quest'aria condizionata Ragazzi Non ho capito Che cos'è È palese Una cosa del gioco Ma Devo cercare Forse fuori Dal monte C'è il freddo Vabbè Non me lo dite Non me lo dite Non mi date indizi L'aria condizionata È il freddo Vabbè A parte Devo vedere Le quest Quindi Non mi devo fidare Della chat Ma Della chat Filtrata Dal sito Devo costruire Un condizionatore Ma Non si può costruire Credo Un condizionatore Cioè Serve Un po' di roba Che non abbiamo Tipo Un motore Un delle ventole Team Aria condizionata Esplora il sito Ecco apposto Esplorerò il sito Infatti Infatti Come state? Vi devo spiegare Un po' di cose Visto che mi chiedevate Dell'aggiornamento In que Fa caldissimo Comunque L'aria condizionata È super accesa Scherzi a parte E al massimo Allora Che cazzo Ho fatto Aspettate un attimo Perché non ho aggiornato Alla 1.20 Perché Ferdi mi ha detto Che l'estimated time Per l'aggiornamento Di Minecraft Più aggiornamento Delle mod È di circa Un'ora Ok? È di circa Un'ora E io In questi giorni Per ora Un'ora Non ce l'ho E voi mi direte Perché? Perché sono in ufficio Da solo Chiara è partita In Corea Con Roberta Con Cikibe E Diceva Ferdi che tra tutti I settaggi Un'oretta ci vuole Ok? E tra tutte le mod L'aggiustino Il test per gli FPS Ok? E Ragazzi Io ovviamente Vi riporto quello Che mi ha detto Ferdi Ma mi fido Perché è uno staffer Che solitamente Sa quello che dice Un'oretta Io forse mi sbaglio Però Rileggo la chat Dovrebbe essere Un'oretta Non vi arrabbiate Non fate i bravi Dovrebbe essere Un'oretta Mi ha detto Per tutte le mod Onesto ha ragione Ok Vediamo Ci riguardo Sì Un'oretta Per fare le cose Fatte bene Dovete sempre contare Che non è Aggiornare il vostro gioco È aggiornare il gioco Più vedere Se in streaming Nulla va in conflitto Con OBS Quindi non paragonate La vostra user experience Con Quello che deve essere Streamare un gioco Ok? Quindi Benissimo Devo Fare questo aggiornamento Ma al momento Ma al momento Non riesco Perché sono da solo In ufficio E Non ho poche cose da fare In quanto Sto preparando I pacchi Per il Giappone E sto finendo Alcuni lavori E in più Streamo E in più Sto anche Facendo Il training Nell'unico periodo In cui posso Cioè questo Per il mondiale Sto giocando tanto In competitivo Ho beccato anche qualcuno Di voi In ladder Oggi Quindi Non riesco A dedicare Al momento Un'intera ora All'aggiornamento Di minecraft Quello che posso fare È magari Nei prossimi giorni Dare un team viewer A uno dei mod Che mi Governa il computer Per i cazzi suoi Mentre Io faccio altro Questa è l'unica cosa Che mi viene in mente Però comunque Team viewer Comunque Anydesk Quello che è Non è semplice Non è semplice Quindi bisogna capire Ok Per ora Non Vi posso promettere Che io Per direttissima Gestirò la cosa Almeno Nei prossimi giorni Poi magari La situazione cambia E mi trovo Più Di respiro E allora Riesco A dedicare Questo tempo Però per il momento Non c'è trippa Per cazzi Al momento Devo Pensare ad altro Sto preparando Un nuovo computer Che abbiamo comprato Da zero Per il Giappone Perché questo Non lo voglio trasportare Abbiamo fatto fare Una build Semi portatile Praticamente È un fisso Ma molto piccolo In modo tale Che non si danneggi Durante il trasporto E sia agevole Farlo volare Dall'altra parte Del mondo Insieme alle luci I cavi Dell'audio I mixer Abbiamo comprato Abbiamo comprato Un mixer Solo per questa cosa Che è diverso Dal mixer Che abbiamo Perché è un mixer Meglio trasportabile Abbiamo fatto Tanti acquisti Ragazzi L'operazione Del Giappone Tanto Sono soldi Gli sponsor Ma ve l'ho detto Che li abbiamo Rinvestiti tutti L'operazione Del Giappone Non scherzo Va nell'ordine Dei 30 40 mila euro Ok Tra tutto Tra pagare i viaggi A tutto lo staff Acquistare attrezzatura Farla volare Dall'altra parte Del mondo Però ovviamente Come vi ho detto Sono soldi Che ci sono entrati E sono usciti Però tanto Poi noi guadagniamo Dalle sub Quindi poggers Però sì Sono davvero State Operazioni Dispendiose Infatti Non lo faremo Tutti gli anni In vacanza Ci vado in Giappone Sì ma Prima Ma non è quello Che costa 40 mila euro Ma tutto il resto Pensate anche solo 10 persone Che volano Dall'altra parte Del mondo Più vengono pagate Perché non è che Viaggiano e basta Gratuitamente Ma vengono anche pagate Giustamente In più c'è tutto Il trasporto E l'attrezzatura Il noleggio Delle case Dove faremo Gli eventi Insomma Sono soldi C'è poco da fare C'è poco da inventarsi Però Richiede Mente fredda Perché Se io Malauguratamente Mi scordo qualcosa E fo La gran cazzata Di lasciare Un pezzo fondamentale Di tutto L'ingranaggio streaming Qui Siamo fottuti Siamo fottuti Perché dobbiamo Ritrovarlo in Giappone E in Giappone Lo streaming Lo fanno in maniera Totalmente diversa Quindi non è neanche La terra giusta Per improvvisare Ok Il computer Magari non lo dimentico Ma non scherzo Se vi dico Che basterebbe Un cavo Smarrito Un cavo Importante Di quelli Non fungibili Per usare termini Minecraftiani E stiamo Nel cazzantibus Se non Troviamo Quello specifico Cavo Magari Non si stream O non si stream Con la qualità La quale siete abituati E che vi vogliamo Fornire Dall'altra parte Lo fanno in maniera Diversa Sì Non stream Bene Come stream Noi Lo streaming In Giappone E' molto più V-streaming Che streaming Tradizionale Non si trovano Studi di streaming Per esempio Non ci sono Tanti streamer Normali Tra mille virgolette Che fanno Grandi produzioni Come accade Per esempio In occidente Abbiamo fatto Un lungo studio Sulla cosa Credetemi Febbraio L'abbiamo passato A studiare Come vivono Lo streaming Giapponesi E la risposta è Ve la faccio vedere La risposta Ve la faccio vedere Ho bisogno Di farvi vedere Sta cosa Ve lo faccio vedere Dovete vedere Importante Vediamo eh Se la trovo La devo trovare Eccoci Ragazzi Faccio vedere Una roba Aspettate Ho trovato Uno dei video Importanti Che Vi renderanno Bene L'idea Aspetta Sto scrivendo Scrivendo di merda Sulla tastiera Non ho trovato Il video Giustissimo Ma lo Troveremo Presto Sto trovando Solo video Dell'evo E invece no Japan Street Fighter Street Fighter Vediamo se riesco a trovare Fighter Strang La facciamo Non lo trovo Pazienza Però Volevo farvi vedere In che condizioni Streamano i fra In Giappone Con dei green screen Fuori di testa Niente Non lo trovo Vabbè Cercatevi Cercatevi Gli streaming Di Street Fighter Ufficiali Dei nazionali Giapponesi E vi renderete conto Che streamano con un green screen Di merda Poverini E Perché non c'è proprio Anche magari Un seguito tale Da fare produzione D'alto livello Motivo per il quale Però Ahimè Noi dobbiamo portarci Tutto quanto Qui Serve testa Aggiornirò Minecraft Promesso Bene Allora Qui fungisce Vero? Sì sì Fungisce C'è talmente tanto caldo Che persino L'aria condizionata Condiziona solo Fino a un certo punto Solo Fino a un certo punto Passiamo al golo Allora Ce l'ho Ho il taccuino Ho Il penna Ho Il mouse E andiamo a vedere La prima notifica E anche unica Direi Il coro di padre Mammonk Si è riunito Per omaggiare Il padre scomparso Premi qui Per unirti al semi Cosa? Mi aspettavo un altro testo Invece c'è un sermone A padre Mammonk Va bene Alzo il volume Sia sempre l'ode La carne marcita Compuste e vermi Ben farcita Aspettate Non sta Non sta bafferando bene In questo player Non mi chiedete perché Sia sempre l'ode La carne marcita Compuste e vermi Ben farcita Buona e nutriente Per tutte le età Delle egonie La divinità Padre Mammonk Non c'è più Segno e nato Sole e cielo Le sue carni Marcirà Esmeraldi Diverà Oltre il mare Cosa c'è Il nemico Del mio mentore O mio padre Tu verrai Ricordato Fra gli eroi E lodato Tu sarai 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 Tu sarai Tu sarai Ma che cazzo Amici Questa cosa Era bellissima Questa cosa Era musicalmente Incredibile Ma L'avete Composta Voi O è Una cover Di un altro Pezzo Da chiesa Che non conosco Perché non li conosco L'avete Composta Voi Ah no è l'intro Di Frozen 2 Ok 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 Frozen 2 Non conosco Ok Questo Ridimensiona Perché stavo per Dì Ragazzi Se l'avete Composta Voi Andate a lavorare In Disney Veramente Andate a lavorare Da qualche parte Ma non state qua Guardarvi gli streaming Di Saidonia No non conosco Frozen 2 Ragazzi Non l'ho visto Frozen 2 Doti Canore Incredibili Doti Canore Incredibili Devastanti Raga Intonatissimi Ma poi proprio Costruito bene Il coro Con questo Basso Maschile E questa voce Squilla Sono in tre Credo che cantano Questa voce femminile Molto alta Queste armonizzazioni Perfettamente bilanciate Anche proprio a livello Di timbri vocali Ma bello Eh E l'ho dato Tu sarai C'è scritto Prima della fine Del video Ok Vediamo un po' Chi sono Emunle Strange E Cappel Maester Ok Prodotto da Emunle Strange Hunter Production Voci Singalek Emunle Strange Cala Fenrir E Hunter Production Cala Fenrir Quindi canti? Non ne avevo idea Siete quattro addirittura Quattro voci Singalek Non l'avevo riconosciuta Sarai Tu sarai Tu sarai Sbircio i credits Come no? Ragazzi Quanti cazzo siete? State diventando un plotone Allora Leggi i credits Tra cinque live Scroll La produzione di un film Allora Di sopra Sono sempre i soliti In teoria Poi abbiamo Artisti Anche Serena E Fox Luvacerba Entrambi pixel artist Nuovi Modders La Stringa Gabri E Wargage Ok loro sempre stati del team Sotto il coro di Padre Mammonk Frankid Team Leader Producer Singalek Vocals Artwork Lyricsist Quindi scrive testi Producer e Video Editor Hunter Production Che era quello di uno dei remix Forse era il chitarrista Della versione acustica Della sigla Producer, Guitar e Vocals Sì direi di sì Video Sound era invece la versione di Giorgio Vanni Della sigla Producer Blessing of No One Vocals and Lyricist Emule Strange Vocals Composer Ok Capelmeister Stefano Okelele Buico Composer Quanti musicisti siete raga In questa community Bene bene Color Ferrier Vocals Rimshot Drums e Lyricist Fantastico Gabriele Supervisor E Workage Website Integration Madonna Siete Veramente tanti E adesso abbiamo anche il coro quindi per il concerto Bellissimo Bellissimo Allora Il diario non ha nuove entries Perché finché non torniamo a casa Non ce ne sono Però Community Ha diverse cose nuove Ok Airbnb Balego Perché distorce un po' E non riesco a leggerla bene Non so se togliendo il full screen evita l'aberrazione grafica Vediamo un attimo Lo fa comunque Non penso gli piaccia questo formato di immagine ma Workage dice di rifresciare Ok quindi Nel godendo Perfetto Graziosa casa Come ripopolare villaggio Graziosa casa Singola Singola con albero vista fiume Ost Riki 55 Smeraldi No Lui vuole le pelli Costi di pulizia 1 Tasse 21 Tra le 407 smeraldi A notte Ma per 7 notti però ok Questa lussuosa casa singola Situata sul fiume di villaggio Può ospitare fino a 1 persone Con la sua stanza singola La sua porta attrezzata Con una vista mozzafiato sul fiume In zona intima E laterale di villaggio Situata a 110 cubi Da un bosco molle E 127 Dal canyon di Elondo Apprezzerai questa casa singola La sua posizione ideale I suoi mobili di alta qualità Riki inoltre vi offriranno delle sue torce Per praticare il riscaldamento di palle E un calderone Per potervi lavare la faccia Per nascondere le lacrime Tutto giusto Cosa troverai? Lungo fiume Spazio per una cassa in entrata Porta, tre finestre, due torce Si prega di non rubarle Divano di sassi Scalini per entrare Purtroppo niente wifi Niente cucina Niente tv Recensione di mercante ambulante Splendido appartamento Ottima posizione Riki e padre mammo Sono sempre stati molto reattivi E disponibili Spero di avere l'occasione Di soggiornare di nuovo L'unico problema riscontrato Un pazzo che vive Lì vicino mi ha rubato i cammelli Ne ho uno Ne ho rubato Fate attenzione Regole della casa Check in 11 mezzanò Disponibilissimo Il mammoncone Insieme a Riki Quando mammoncone c'era Check out Entro le 16 Massimo due mob Alloggio e sicurezza Porta Si è chiusa Finestra per guardare fuori Non c'è la finestra per i piedi Questa prenotazione Non è rimborsabile Leggi termini cancellazione Complete e lost Che si applicano anche In caso di malattia Disagi legati alla pandemia Di scalca Ovvero hanno già teorizzato Che io porterò lo scalca A villaggio E poi abbiamo anche la mappa Guardate dall'alto Incredibile Sono lama e non cammelli È vero Allora Infezione Disidera Che bello Sono io che mi Inscalcato Che sono tutto inscalcato E dietro il demone sorvegliante Peccatori Il Davido Ragazzi il Davido Su il Davido Spendo mezza parola di più Perché io questo ragazzo L'ho visto crescere Cresciuto con la community E gira in community Da Quanto Sidera in realtà E Però È la persona Che forse ho visto più migliorare A livello di disegno È passato da fare Dei disegni A fare Robbe Ho aperto la pagina Due Ah ok Sì Giusto Pagina uno Non c'è rimasto più nulla Se non l'odio Odio verso la stirpe Di coloro che ci hanno creato Avete trovato la magia E l'avete portata qui Non c'è Non c'è rimasto più nulla Se non l'odio Odio verso la stirpe Di coloro che ci hanno creato Avete trovato la magia E l'avete portata qui In un mondo che non ne aveva Nati dalla mano umana E vi odiamo per questo E tu Tu che sei l'ultimo rimasto Credi che il dono Del ritorno sia una benedizione Lo è Ma non per te Wargage Far mettere in pausa Desideriamo vendetta E ci vendicheremo su di te Per sempre Sono le anime dei dannati Dentro il cuore Del demone sorvegliante Merda Merda Posso dirvi una cosa Senza ecco Potremmo davvero Fare una nuova intro Potremmo davvero fare una nuova intro A un certo punto Diversa da Elden Ring Cioè sullo stesso tono Quindi col narratore Musica epica E disegni O In game graphic Come appunto L'ultima opening Però potremmo farla Però potremmo farla Visto che È nata per scherzo Ma ormai non stiamo più scherzando Potremmo fare una cosa del genere La cosa del genere Mi ispira molto Cioè vedendo questa cosa Effettivamente penso Potrebbe essere il momento Di una nuova sigla O meglio Di una nuova presigla Di una nuova opening Nuova stagione Esatto Stagione 1 finita Qui le stagioni durano di più Rispetto a A Elden Ring E a Dark Souls Archivio clip Ne prendo Ok prendo l'ultima Maestro Ma l'evoluzione è umana Ok Secondo me La domanda è perché lo racconto Ah che mi trattenevo la merda forse La domanda è perché lo racconto Perché secondo me L'evoluzione umana Sta nella condivisione Se nessuno oggi ancora Avesse detto questa cosa Magari C'è gente che continua a ripetere Quest'errore Invece oggi Sapendolo La gente sa Quando Deve cacare Ma sta facendo un'altra cosa E pensa Vabbè Ricaccherò dopo Pensano a me Che dico Ragazzi poi prugne secche Merda Il cacco Brutto L'età media Il nostro pubblico è 22 anni 23 anni Che tranquillamente Secondo me È una fascia d'età Nella quale la merda Si può trattenere Cioè sono d'accordo Col Seidone È passato No vabbè Sì c'ha ragione Figurati se uno A 30 anni Si trattiene la merda Perché De gioca Figure Vediamo se ci sono Quest Ma non credo Ok sono sempre Le stesse Questa Non l'abbiamo mai fatta Magari me la Segno di nuovo Magari me la Segno di nuovo Sono un oggetto Sono un oggetto molto bramato Con un corpo solido Di aspetto allungato Porto vicino Ciò che è distante Perfino le stelle Al di là dell'atlante Rossiccio il mio corpo Violetta la testa Questa è la prova Della mia richiesta Mi possedevi in passato Il maestro lo sa Fornivo sicurezza E tranquillità Il mio segreto Ora sai Il mistero è svelato Recati al banco E mostra quanto Ho imparato Mi viene sempre in mente L'ingotto di redstone Per quanto non abbia senso Perché porto vicino Ciò che è distante Vuol dire che magnetizza Perfino le stelle Al di là dell'atlante Quindi mi sembra Legato alla bussola Rossiccio il mio corpo Ci sta Violetta la testa Che cazzo vuol dire Forse devi fa Aspetta 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 No Domanda Domanda Mothers L'oggetto Può non essere Di questa forma Può essere In cannocchiale Porto vicino Ciò che è distante Il maestro lo sa Il binocolo Fermi Priorità 1 Sai il binocolo Ho avuto sto flash Del maestro E delle stelle Ho pensato Alla descrizione Di Elden Ring Che fa du palle Così Con le stelle E l'astrologia Bannata Rossiccio il mio corpo Violetta la testa E quindi come la fa Con l'ametite Lì come cazzo si chiama Quella viola E la redstone Rossiccio il mio corpo Devo fa Stecca del pisello Di redstone E glande di ametista Ametista Dovrebbe essere Recati al banco E mostra quanto ho imparato Il mio corpo è rossiccio Non so se deve essere redstone Polverosa O forse blocchi Possiamo provare entrambe le cose Io la posso fare sta prova Perché avevamo trovato Da qualche parte La ametista qua E la redstone pure E in teoria posso provarci già Prima di tornare a casa Rosso Rossiccio Rossiccio Corpo Violetta Testa Quindi scarlatto e violetto Ho riguardato sequestr E mi è partito il pisellino Coordinate Grazie intanto a Michelosco della sub Grazie a tutti Come sempre Vi leggo in coda Tanto fretta non ce n'è E le intro di minecraft Sono lunghissime Soprattutto quando poi Devi parlare della gente Che dice Non vai Traforo Aguiliano Eh no Aghi nell'ano Aguiliano Volevo Darmi più credito Di quello che ho Aghi nell'ano Bello Mi piace con una sola L Traforo Aghi nell'ano Delle misteriose grotte ricche Di stalattiti E stalagmiti Vicino alle terre di Skalk La loro conformazione Fa sì che siano molto arieggiate Dovrebbe essere praticamente Il momento cascata Sì Il momento cascata Che ti porta su Sì State facendo un pan Questa cosa è l'aria condizionata Non è un caso Che si arieggiate C'è un sistema di correnti Dentro questa Grotta Se devo Creare un buco Con l'esterno Cos'è l'aria condizionata Come si fa L'aria condizionata L'aria condizionata è Un motore Esterno Che Succhia l'aria E la butta Con una temperatura Specifica E condizionata Dentro casa O dentro una vettura Cazzo devo fare Su minecraft Per riproporre L'aria condizionata Un po' Evoca il freddo E il caldo Che poi in realtà L'aria condizionata Può essere anche calda Ma infatti qui Non viene detto Freddo o caldo Viene detto Arieggiato Forse c'è un sistema Di correnti Che non conosco Ancora Forse L'app B Di Steve Le ali Sono legate A una meccanica Di volo Di Planata Che non conosco In ogni caso Commettiamoci Che Aghinelano Da Esplorare Per Aria Potrebbe essere Una roba Legata Alle correnti Che I ragazzi vogliono Farmi capire Però Tipo è una roba Che se non la sai Non la puoi Percepire Per niente Eccola Ecco il traforo Aghinelano Vabbè Sicuramente Non è la priorità La priorità È Oppure Una stronzata No Non può essere Una stronzata Perché ci hanno Memato Tutto il finale Dell'altra volta Quando Sono ritornato qua A Leggervi Era tutto Un'aria condizionata Hashtag Ora avete ricominciato Con l'aria condizionata E qui Hanno messo Arieggiato E via Qualcosa c'è Però È veramente Difficile da capire Che belle Le terre di scarica Vabbè Allora Facciamo Il famoso Ordine del cazzo E dei pesci Però ho sbagliato Tutto Vero Famosissimo Ordine Dei cazzi E dei pesci Nox Galaxy Grazie Del ride Grazie Del ride Però qua mi si è Tutto quanto Decacato Mi si è decacato Lo schermo Ok Ora non si è più Decacato Però si è tolto Il full screen Aspettate Ok Allora Facciamo l'ordine Delle cose Da fa Uno Esplorare Terre Di Scalc Sud No Uno addirittura Deve essere Check Strumenti Se non sbaglio Eravamo rimasti Con poco e nulla Lana di roccia Se ci portiamo dietro Anche la lana Lana Portiamoci dietro Anche la lana Ehm Poi Due Esplorare Terre di Scalc Sud Non mi Sembra Di voler Fare niente Di particolare Che non sia Esplorare Sbaglio Sbaglio La presa Della metista Certamente Quindi mettiamoci Un 3 Qui così Quest No no La quest Lasciate perdere La quest Intendo dire Nelle terre Di scalc Non avevamo Visto Roba L'altra volta Che ci ha fatto Di aspetta Cioè Sono semplicemente Inesplorate Vero Ecco Perfetto Poi Ehm Quindi La quest Rossiccio Corpo Violetta Testa Il mio cazzo È lungo E fa tanta festa Dopodiché Io vi direi 4 Esplorazioni Di aghi Nellano Perché siamo qui E 5 E non sappiamo Se ci arriveremo Verosimilmente Saranno 2 live Per questi 5 punti Quindi oggi E giovedì 5 Tornare a casa A prendere Vanga Baganga Quindi Ve lo ripeto 1 Check strumenti 2 Esplorazione Skalk Sud 3 La quest Quindi raccogliere L'ametista E fare delle prove 4 Aghi nell'ano Per capire Sta cosa Dell'aria Condizionata Dell'arieggiare La grotta 5 Tornare a casa E prendere Tocco di Sborra La Vanga Marchi Avete ragione Tocco di Tocco di Sborra Velluto Sì sì Vabbè Sborra Chiaramente E va bene Va bene Amici Direi che Le Geox Sono state fatte Pertanto Fatemi aprire il gioco Sì 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 до Sì 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 ragazzi è tempo è tempo di salutarci ok? è tempo che il ricercatore torni nel suo isolamento cognitivo spiritico, animoso per capire di più e scimmiare di meno ok non ci siete più see you later poggy gator allora di Peacons ne ho piene le palle ma in realtà non stiamo messi così male torce quante? una? però in teoria dovremmo avere un sacco di cabons di là un sacco di cabons di là dovrebbe essere quindi non dovrebbero esserci grossi problemi c'è una carne marcia mammonchiana che qui non ci serve la lana ce la portiamo dietro il trisco ci può stare ma magari solo due stack le cibarie stiamo un po' in difficoltà che dite? forse le cibarie? non mi pare di avere altra roba non mi pare di avere altro cibo di là oddio che bella la notte così però possiamo godercela 5 secondi prima che un creeper si infili nel mio culo lo so che lo farà ragazzi lo so che mi deflagrerà analmente ma la scimmia quando diventa uomo comprende che a volte sono i colpi di testa che ti fanno sentire vivo e una scimmia non sa quando sta ragionando distinto quando invece il logo sfortunatamente serpeggia tra le sinapsi un uomo sì un uomo sa quando non sta ragionando e sta invece procedendo di pancia ed è che quel trasgredire che ci fa sentire vivo eh? oh merda pa 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 no non avevano gli occhi verdi le altre è vero? è stata sgobada e dai niente è stupida ok non sappiamo ancora cosa farci con la membrana di manta però per ora la conserviamo facciamo una nanna dai abbiamo rischiato a sufficienza devo prendere un po' di porci buongiorno monte Heineken io sono l'ultimo uomo intelligente sulla terra pensa a quelli stupidi sono brutti tempi questo lo so però devi sapere che ai miei tempi c'era chi diceva che gli studi di registrazione insonorizzassero le loro stanze con i cartoni delle uova quindi tutto sommato ci sono stati dei progressi rispetto ad allora e tu? e tu vuoi fare la pugna ma sei uno stupido non hai superato il momento scimmia e questo è la tua rovina cabbons e qui e qui c'è mamma mia raga ma questa è via dei cabbons questa è la via dei cabbons non mi dite di no perché qui c'era una quantità carbonica proprio fuori di testa buono dai scendi 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 piccolo andiamo lasciati trasportare dalla corrente se non sbaglio i maiali erano in questa direzione è bello fare così come i militari come si chiama il personaggio di Mikkelsen in Death Stranding Gilad Red Delonk non me lo ricordo però lui che fa lui Sam Porter Bridges e che sia con la C Clyde no quello regalente il nome è regalente nuovo mughetto erano qua se non sbaglio i porci io voglio fare i miei porci comodi do do i do 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 Sento api ronzare, ma nessun maiale che maiala. Il verso del maiale è il grugnito, il verso del coccodrillo, al di là del fatto che non sappiamo come fa e va bene. Non so se lo sapete, ma ai tempi di Grosset ci fu un concilio di scienziati capitanato dall'allora ricercatore Babied Enns. Babied, scritto B-E-B-I-D, Enns, H-A-N-S, ok? Babied Enns. Ha ragione il meteo. Oh, ma c'è un maiale, un porco, ho bisogno di una cotolettina. Non è di porco, ma... Un maialino, un entro e cot, un seto pari, un entro e cot. Sillvoudsblight. Eh vabbè. Si fa comunque lo scippo della scippo. Oggi ho preso una siringa, l'ho intinta nella simpatia. Ma io come le vedo le torce, ora? Mori, ma c'è anche il suo Orgaggalad. Vabbè, ma si fa un pecco di ciglio, non c'è problema. Vabbè, eh, niente. Si è comunque preso un ottimo otto pecorame. Almeno non ho ucciso otto pecore, quindi qualcuno ha bidroppato. Qualcuno ha bidroppato, eh? Qualcuno ha fatto il cosiddetto bidroppo, secondo me. Ciao ai ragazzi di Amala TV. Che non posso leggere se scrivono, perché ho lasciato nascosta durante Minecraft, ma vedo quantomeno le azioni eseguite sul canale, quindi ride, sub. E credo anche host. Con uno ho condiviso il viaggio in Twitch con Paris. Con l'altro qualche vocale sui motivi che portano i Pokémon a scopare in pensione. Era anche un discorso particolare e profondo. Ne riparleremo. Gianni Morandi è qui con te, sì. Tu stai molto attento che ti fa un piccolo sesso imprevisto. Oddio, mucche! Ma non sto andando... Non sto andando in direzione corretta, vero? Intanto... Ha bidroppato! No, ha tridroppato! Madonna, il tridroppo, raga, è grosso. Ok, vedo la gasgheda. In realtà era tutto giusto. Ehi, vacca! Oh, ma come va quella vacca? Raga. Allora, vi racconto una storia. Però questa è una storia di vita vera, non è una stronzata. Mi ricordo che quando ero piccolo a un certo punto mio padre incontra un amico. Avevo, raga, otto anni, nove anni, non lo so. Madonna, che belle le torce lì in fondo. Ok, cassa mia, no? Può essere cassa mia. Cassa mia è qua su. Veloce che cazzo è? Vabbè. Cassa mia è questa, vero? Ascermi un attimo, eh? Sono impanicatissimo. Cassa mia è qua su, vero? Però perché ci sono delle torce lì là? Perché è un altro monte dal quale sono venuto. No, questa non è casa mia. Questa è un'altra gascheda. È una diversa gascheda. Oh no. Ok, quindi è di là. Va bene. Questa è la fake scata. È la famosa cascata illusoria di Grosset. La fake scata. Comunque dicevo, avevo otto, nove anni e c'era questo amico di mio padre che a un certo punto nel discorso fa eh, questo tizio c'aveva una vacca. Sì, sì, una vacca. Vacca gare. Che è una battuta del cazzo. Ma vi giuro che in quel momento cioè io ho pensato merda, questo è un grande. Questo ha fatto una battuta veramente simpatica. cioè vacca ma anche vacca gare. Questo tizio è un figo. Ha fatto la battuta più divertente del mondo. Quindi ho emulato questa battuta all'elementari per molto tempo, no? Questa vacca vacca gare. Però non ridevano come mi aspettavo. Quel periodo della mia vita è mai finito secondo voi? Non credo. Sono i polifi, ragazzi. Ascolta tutti i giorni i polifi e ce l'ho in testa. più 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 più. Ok. Benissimo. È un inizio di puntata bello chillonzi come deve essere. Il ritrovamento magico. Adesso un po' di Artura la cottura. No, 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 no Neve brutta Che succede? Perché non c'è un sentiero Affidabile Forse il creeper dell'altra volta Ora è giusta, no? Non c'è casa mia Ok Che silenzio Che silenzio Quasi assordante Va bene Andiamoci da fare Andiamo a cuocere tutto Che non vogliamo rimanere Ricky Chissà cosa fa Ricky Chissà cosa pensa Secondo me mi dà per morto Ricky Secondo me Ricky pensa che io non tornerò mai più Perché Cioè Anche io penserei lo stesso di È come se tornasse padre Mabok Cioè Metà carbons lo prendo Metà no perché giù ce ne dovrebbe essere Un bel po' di carbons Facciamo così dai Ok Mettiamoci subito Un altro carbons allora cosa è successo adesso 5 4 9 mangiarini 17 più magari se abbiamo qualche avanzino giù direi che stiamo bene da un punto di vista mangico ma sono meno non volevo aprire la porta perché due vanno mangiati ora su 15, comunque tanti più qualche avancello giù dovremmo essere nel godo bevo ancora perché amici bisogna idratarsi bisogna idratarsi casino allora caro il mio sigismo ce la farà anche cucinare ti dà energia verde o forse sì ma me lo scordo ogni puntata siamo senza legna qui dietro no c'è c'è un po' di torce d'emergenza perfetto quello che non serve questa lana porterei solo questa oddio no non stacca via questo pietrisco e il ferro magari lo facciamo at this point e lo mettiamo nella cassa giù lo facciamo e lo mettiamo nella cassa intermedia non c'è altro ferro qui facciamo il ferro fers tuli latum ferre trasformo tutto in bastoni di lunga vita cabons eeeh facciamo tutto dai va bene ma smetti vai terzo fero fers tuli latum ferre tanto faccio le minne e secondo me ne faccio anche un seghino però proprio con la carne in mano e comunque secondo me a un certo punto la mano non basta per l'immaginazione cioè voi immaginatevi questo uomo questo ricercatore questo povero disperato solo nel mondo che si deve segare tutti i giorni non c'è alternativa cioè o ti seghi o ti seghi quindi a un certo punto secondo me si crea una sorta di anestesia tattile con la mano e dunque a quel punto fai il premente il camogli che è questa sorta di panino che ha come pane il carne la fetta di vitello insomma scaldata ma non troppo che avvolge calorosa il pisello che è l'insaccato che viene insaccato letteralmente dentro il sacco carnico del maiale del vitello della mucca poi dipende no e fai questo bel camogli e comunque secondo me ne torni rinvigorito anche perché altrimenti cazzo una volta fa questo anche perché altrimenti secondo me la tensione sessuale accumulata poi tende a essere un fenomeno distrattivo invece sega fatta no una sega al giorno e non ho bisogno è porno questo dice il dottore idealmente ce l'abbiamo il legno giù perché ho uno spadino piccino picciò a metà della sua durabilis cosa sto sbagliando ma è sempre stata così lunga questa discesa è bizzarra come situazione pertugio profondo pieno di sorpresa oh sì no non l'ho preso pozzo di cazzo l'ho prilasciato l'ho prilasciato lì l'ho lasciato lì come un coglione l'ho fatto e l'ho lasciato lì lì sentito un po' di zombie all'oscuro la porta me l'ho dimenticata giusto 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 abbiamo pure la redstone e qui si fa questo che devo fare ma a livello di carbons eh a voglia te a voglia te cieca comunità europea del carbone dell'acciaio proprio confermata basta un cabo non so se basta un cabo però direi di andare full torcega di andare full torcega quindi facciamo bibo 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 bobo ecco visto che ciraida ama la tv facciamo anche la bobo vieri che è questa eccoci e già soprattutto più intorciato sapete perché si dice si attorciglia perché gira su se stesso e chi è che gira su se stesso chi non ha le torce ha privativo no ha patico senza patos ha torcigliato senza torcia e quindi che fa gira su se stesso perché non riesce a trovare una via univoca questo è banalmente studio etimologico delle parole che veniva fatto in sesta elementare di grosset non so se conoscete il percorso di studio di grosset probabilmente si c'è prima seconda terza quarta quinta elementare sesta elementare sesta elementare di nuovo per vedere se sei stato attento sennò ti bocciano giorno 1 di scuola ti fanno benvenuto di nuovo alla sesta elementare se non ti fai domande rifai la sesta elementare ma la prima ok vai ok però qui eccoci 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 qua aumentiamo la posta in gioco fanculo non è più tempo di scherzare e abbiamo capito come girare attorno al bastardo aumentiamo la posta in gioco e aumentiamo la posta in gioco ci portiamo dietro anche l'arco così possiamo colpire a distanza e siamo incentivati a giocare strategicamente allora da qui si esplora metodicamente avevamo avevamo già fatto una scala questo mi rende felice sicuramente come se ci fosse un giradischi nella traccia come se volesse rievocare effettivamente si chiama ancestry la traccia quindi assenso come se volesse rievocare il vecchio nell'ascoltatore l'idea che questa traccia non sia un mp3 ma ci sia il dentino sul 33 giri al di là poi della roba ansiogena secondo me possiamo sempre di più teorizzare che sia stata avvelenata tanto tempo fa questa landa qui avevamo distrutto tutto però avevo creato anche una discesa che questa sentite la scaviamo perché c'è l'indovinello e non so quanta me ne possa servire senza contare che potrebbe essere diamantina la situazione ma quanto stiamo? a 0 giusto si 0 se salto va 1 si a 0 queste che cosa sono qualcosa sono perché questa si distrugge con niente ma questa no però non sembrano essere utili al fine del combattimento con il demone sorvegliante è tempo un po' di soffermarci anche su questa cosa soprattutto in ottica di raccolta materiali se ci portiamo il velluto pazzo però non capisco cosa dovrebbe essere gli altri oggetti sono piuttosto graficamente intuitivi questo non lo è per niente è un pezzo di scalp con una boccorona attorno contenitore come se fosse un vaso andiamo piano e scegliamo una strada perché ce ne sono tante andiamo prima verso il basso andiamo prima verso il basso perché dove potrebbe essere più diamantina la situazione tra l'altro sono già sceso una volta aspetta ma avevo creato qua un altro discesone sì eccolo andiamo ancora dai che tanto come si rompe in mano sto cazzo aspetta ho lasciato un po' ho sentito un suona ione attivarsi ok vedete io pensavo fosse per un attimo in prospettiva mi sembrava il sorvegliante non è il sorvegliante vi giuro mi sono cagato l'ho mai vista ribollire così tanto questa terra tranquilli tranquilli cosa vuol dire si nutre della morte ammesso che di morte si possa parlare delle creature che ci uccidi accanto quindi in questo caso avendo ucciso lo scheletro qui vicino si è emozionata la terra e non possiamo essere più così baldanzosi secondo me da dove veniamo da di qua ok cerchiamo di andare dritti verso quel pertuge ma non prima c'è della segabilità ragazzi c'è un principio di segabilità importante e poi prendo danno da Antonio Giorgio Max ma anna ragazzi ancora? oddio c'è una famiglia sono pericolosissimi sono pericolosissimi dio cristo c'è qualcosa lì ce ne sono troppi magari c'è uno di quei cose che li fa apparire sono un po' troppi per i miei gusti molta gente bravissimo poi è morto cambio arma allora non necessariamente direi che ci andiamo a impelagare qua facciamo così continuiamo ad andare per qui attenzione però ok è ancora molto presente lo skulk mi aspettavo di vederlo diminuire invece lì c'è proprio un'alta concentrazione skulkica bizzarra come situazione lo vedo dobbiamo sperare che non ce ne sia è un portale lì no solo una sarebbe stato incredibile un portale nello skulk io non credo ne vedo un altro ma non credo che possano attivarsi 1 2 3 ok qualcosa no 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 testa di cazzo stai fermo oh dio stai fatti i cazzi tuoi porca mannaggia ma vedi tu ma 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 sta tutto incassettato sto coglione ma ma dio ok non so per quale miracolo ma non abbiamo preso il debuff dell'oscurità ok ok Io ho visto che uno di loro ha comunque suonato, quindi verosimilmente, verosimilmente, c'è anche una tua prossimità da soddisfare. Io l'ho visto, questo qui si è incassettato, ma io ero lontano, quindi verosimilmente il trigger è che deve suonare il sensore accanto al catalizzatore, mentre c'è qualcosa che può essere attaccato. Perché questi si sono attivati davanti ai miei occhi, ma non è successo niente. Quindi se sono abbastanza lontano da tutto il casino, in linea di massima godo. Bene. Sono dolce. Bello. Però, qui si pone un problema. Intanto il pipistrello è fuori controllo, cazzo, guardalo. Fuori controllo. Questo. Allora, quel pipistrello è pericolosissimo. Qua ce ne sta un altro ancora. Sono uno. Due. Tre. Tantissimi. Quattro dovrebbe essere. C'è uno qua. Quattro. Quattro. Sono tantissimi, cazzo. Forse possiamo scendere da qua. Forse possiamo scendere da qua sotto, ma è molto rischioso. Molto rischioso. Facciamo un po' di luce. Proviamo a scavare. Da qui e se sentiamo che si agita, smettiamo, come l'altra volta. E comunque non ti aggra subito. Scaverei, ma... Sentite me, non dritti così e basta. Un po' di... Di retro botteghe. Facciamo il cosiddetto zigo zago. Al mio cazzo non da spago. Vecchio detto. No. 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 Disastro scendere qui, ragazzi. Un lutto, un lutto. Disastro. Eh, perché si attiverà questo qua. Eh, vedi. Tra l'altro c'è sto cazzo di pistrello, dio. Degli dèi simpatici che veramente... Proviamo allora a scendere da... Di qua, di qua. Ok. ho avuto per un attimo paura di non selezionare l'avete visto? no perché acqua quella? è una gasghiera? vedo dei riflessi li vedete anche voi? allora vaffanculo cerchiamo per ora di no 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 che fai? è idonia andiamo di guardare dall'alto dove è safe ci mettiamo una vesica non sembrerebbe esserci pericolo qui forse la discesina è fattibile qua continuiamo a fare il lavoro del mago sylvan e qui possiamo mettere un tappino ecco stiamo comunque scendendo eh lì sono diamanti? no è solo terreno tutto in scalcato purtroppo un'altra torciaica per segnalare il disceso al me che morirà tra 5 minuti che sarà dunque risorto yeah godendo godendo DS la console portatile di godendo che è una delle più grandi produttrici di Ludo di Grosset bene adesso si pone un altro problema sarò stronzo che cazzo metto una torcia in mezzo a Somarropoli dicevo dobbiamo capire quale rompere per primo ora in teoria io posso cominciare a spaccare i sonagli che sono lontani però devo fare prima una silente mappatura secondo me uno due lontanissimo lo vediamo qua ecco uno due tre quattro distruggerei prima lui che è molto isolato e secondo me ci togliamo un pensiero è il nuovo problema adesso lui adesso lui oh ce l'abbiamo fatta eh minchia sta discesa era infernale ma ce l'abbiamo fatta con l'arte della stubbornness via no ma che cazzo faccio che cazzo mi stava infartando il cervello che faccio che faccio sto prendendo del coso sbagliato ok che cazzo stavo facendo raga che è solo la musica via tutti sti cosi non voglio avere problemi dopo con i piscazzoli particolari metti che ok ok la prossima è questa è quella che mi fa un po' più paura perché è tanto vicina ma non credo che ci siano sonagli che prenderanno questa rottura catalizzica grazie a Rufus della sub grazie a me non l'ha presa abbiamo clirato ragazzi abbiamo clirato abbiamo clirato eccolo qua bene bene continuiamo ma dobbiamo piazzare un godico percorso ora che possiamo eh vai coglione vai vai fai i suonini del cazzo adesso posso illuminare coglione grazie tib della sub quanto stiamo meno 53 se non sbaglio meno 100 era il massimo in queste zone dobbiamo quasi provare a scavare ancora però sono blind potrebbe esserci anche solo lavica costruzione ovviamente perchè ho già giocato ora quanto sei grande vaffanculo no dai uno solo dai dai ma ce n'è altro ce n'è chiaramente altro ce n'è chiaramente altro devo stare attento però eccola no non era 100 allora era proprio vicino al cap infatti avevo il dubbio mentre lo dicevo buono basta il culo c'ha già sorriso però la situazione è particolarmente diamantina nelle terre di Skulk è Lucio Ego Balego voleva aumentare i possedimenti diamantini e ha avvelenato le terre pensando di poterle controllare ma la cosa è sfuggita di mano merda 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 è tutto vero hanno avvelenato le terre perché forse in qualche modo la reazione dell'assorbimento delle morti generava altri diamanti volevano rimanere i primi ma la cosa è sfuggita di mano forse per questo re luce è sparito si è ucciso non ha sopportato il peso di aver condannato l'intero pianeta ma soprattutto dove cazzo sono i miei diamanti ne voglio altri ma fai sto già finendo l'ultimo picco andiamo avanti che fo che fo la speedrun però dove la situazione è lavica c'è sempre stato purtroppo un culo di isacco sempre stato un culo di isacco perché tanto qui siamo a meno 50 cioè potremmo trovare altri diamanti verosimilmente bellissimo certamente ma non siamo qui per i diamanti siamo qui per capire se c'è un qualche tipo di ricompensa dentro questa mappa assurdamente difficile da esplorare questa è la cosa che mi fotte il cervello la mappa è complessissima non è così semplice portarsi a casa un diamante qui dentro a parte un diamante qua sotto vi faccio vedere dove è aspettate che non so se lo sapete ma lo sanno faccio vedere i vet come me lo sanno quando tu fai la redstone fai redstone redstone diamante si avvicina proprio redstone redstone ne ammazzi due cioè ne scavi due e il diamante subito si avvicina proprio viene avanti di un cubo però devi colpire due redstone insieme niente di nuovo sta merda di nuovo sta merda sto perdendo tempo e piccons il fatto è che come abbiamo visto prima la venatura diamantina può essere anche veramente piccola prima abbiamo avuto super culo a beccarla davanti a noi verosimilmente potrebbe essere qui nei dintorni e la stiamo missando di boh uno spot ok continuiamo l'esplorazione la facciamo una continuazione per dritto direi c'era il grande vuoto lì un buggy clown mi sa non c'è niente qua se non era buggy il clown ma non c'è niente tanto lo capiamo appena troviamo i cazzi 54 un po' più profondi qui forse un po' più diamantino la situa attenzione attenzione fa per finire tutto raga è andato più in basso del solito qua vero? e invece vai posto un culati torniamo torniamo dobbiamo fare almeno altri due piccons forse tre me ne porterei addirittura tanto la cosa buona è che abbiamo liberato la strada qual'è il punto delle terre di skulk? qual'è il punto delle terre di skulk? cazzo non ci credo che non ci sia un punto un po' per game design e un po' anche per voi siete stati i primi a dirmi ma che cosa protegge il sorvegliante? e ha senso che protegga come dicevamo un tesoro noi non abbiamo trovato niente ok dei diamanti fantastico mi piace la loro diamantina però niente di entusiasme lux perché non c'è niente? perché non c'è nulla? scusate non mi valeva proprio la pena qui possiamo andare dritti in teoria proprio nel corrantibus ok ok qui risalvo qua ok giusto ma sono ragni quelli? sì un po' di ferro qui ma non ho voglia zero voglia fai conto zero voglia zero voglia di colluttarsi sono tornati a casa mi sa qui qui è casa no? la voglia qui è casa sì ma dall'entrata strana che cazzo sono? aiuto no era giusto era tutto giusto l'ho sbagliato ah ok non avevo visto questo posto a posto ragazzi problema rientrato andiamo andiamo come Douglas Rubicon ok mangiamo ce lo siamo meritati poi continuiamo l'esplorazione di quel posto intanto tolgo il punto numero uno tolgo il numero due in teoria togliere un po' di cose devo togliere il numero uno sì poi devo togliere basta che il numero due è esplorare questo posto intanto via 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 ah c'avevo pure i polletti senza via dentro via via buttata ok perfetto ora facciamo che cazzo faccio ok sì sì tanto vedrai che ci facciamo con questo la strasciutta allora di torce ancora siamo belli messi bene facciamo aspetta quanto ferro ho cinque cazzo io che volevo fare mille piccons devo fare una spada qua no riesco a fare un altro piccons però attenzione perché finisce la spada però finire la spada cioè consumare la spada è meno spaventoso prendiamoci anche la vanga così magari lo facciamo con la vanga lo skulk merda allora non c'ho il cabbo sì il cabbo mi fossi portato l'altro ferro a quest'ora avrei anche la spada ma purtroppo sono un coglione mangiare un mangiato le torce ce le ho questo lo metto a posto ok te hai fatto il cabbo non si mette a posto i bastoni pure perché a parte quelli che mi servono per craftare che sono letteralmente due sì non mi serve quindi facciamo pipo papo pipo pipo papo bene andiamo andiamo ragazzi grazie prime game official prima game anzi eh raga purtroppo non non sono tanti due piccons me ne rendo conto perché comunque ne avevamo l'equivalente di due tra uno e due consumati eh però questo passa alla convention merda ma quello ma il grande baratro bello però non è il momento quanto stiamo due non siamo tanto non siamo tanto alti in realtà potrebbe essere più basso del normale vogliamo dargli un'occhiata e fa piano e fa piano sidonia e fa piano allora innanzitutto e poi farlo fa perché secondo me il senso della nostra esplorazione potrebbe essere c'è uno spazio più basso di meno 60 in questa mappa esiste o tutto nelle terre di non è così profondo come sembrava però non è così profondo come sembrava facciamo a risparmiare facciamo questo ok 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 qui è come se finisse proprio possiamo vedere se c'è un punto di ricongiunzione scalchica magari possiamo vedere se qua tipo lo scalch ricomincia sembrerebbe di no il primo poi ovviamente finisce io che pensavo fosse un barato manco minimamente guarda non so neanche quanto ci convenga sinceramente ragazzi non so neanche quanto ci convenga va bene va bene va bene va bene scusa va bene l'altra volta mi hai fatto trovare questo posto veniva da qui veniva chiaramente da qua ho fatto proprio il suono direzionale non ci mettiamo niente a vedere se è una zona di leg una zona non scalch perché dovrebbe continuare oltre i meno 60 e non ci mettiamo tantissimo non ci mettiamo non ci mettiamo stiamo 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 quasi manca molto si continua a scendere cazzo niente ragazzi mi sa che il suono stavolta ci ha buggerato queste terre di scalch sono state bellissime la puntata di scoperta del demone sorvegliante è stata forse la mia preferita però poi però poi dove siamo andati qual è stato il climax delle terre di scalch non c'è stato non c'è stato che sia un altro nether quindi bello un cima ma poi brutto un fondo 45 vai che si va più in basso vuol dire che non è c'è l'oro qua mi sembra una zona abbastanza normale raga questa è una zona zona baleg bug immagino immagino bug ma mi fa sempre emozionare quando vedo quelle robe no c'è niente c'è niente meno 50 siamo vicini qualcosa che non mi piace la lava è molto vicina cerchiamo di non andare troppo in basso cerchiamo di andare dritti per un po' finché non finisce il suono la sento proprio però in teoria siamo comunque pronti aspetta e facciamo così siamo comunque pronti a fare al massimo roll no roll su roll su finché alzo un po' il volume finché smette la lava poi torniamo giù sento ancora sento molto bene lo so di merda questo ragazzo però c'è ancora la musica della zona ci segna ancora qui dentro questo è ottimo avevo perso le speranze ci segna ancora qui dentro non abbiamo cambiato mappa cerchiamo allora di non creparci incredibile ma vero ragazzi dove cazzo sono meno 52 sai che è la zona di prima facciamo così sarà la zona di prima no è un'altra un po' continuiamo non so che fare niente qua oddio continuerei per di qua cerchiamo cerchiamo quantomeno la fine dell'area cerchiamo quantomeno la fine dell'area c'erano diamanti qua Siamo a Meno 54 In teoria Questo deve essere Di nuovo il punto Di meno 60 fine Dai Eppure continua con questi suoni il gioco Redstone redstone Quindi qua c'è il diamante Passo un po' E niente Abbiamo ritrovato la roccia Che si Caga addosso C'è niente ragazzi Torniamo indietro Non c'è niente Manca un diamante di consolazione Secondo me C'è un cazzo Dove cazzo ho messo Il pickons Ok Secondo me non c'è una segre Siamo a fare Nether 2 la vendetta Non so neanche se rimanere più Dentro le terre di scalca A questo punto Forse conviene indagare A chi nell'ano Finisce almeno la musica Qualcosa Se scappi Dal Se scappi dalle terre di scalca Non c'è niente Non c'è niente raga Guardate E stanno pure alzando i muri Non c'è niente No No Siamo per nulla E piccone Stiamo perdendo Tempo E piccone Qui Non c'è niente Ma La domanda È legittima C'è una ricompensa Odoro Che comunque Da dove vengo Io dalla luna Mi sa Una certa Devi anche Droppare Devi anche Mollare la presa Magari È solo Per Accumulare Barra verde Questo posto Il che però Potrebbe essere Smentito Dalla possibilità Di usare Tocco di velluto Se io usassi Tocco di velluto E funzionasse Però ovviamente Non posso dimostrarlo Per ora Non ho idea Di dove sono Che va sul momento Dell'avanti Devo mettere sopra Non funziona Sì Il sunbot Poi gliela tolgo C'è Non solo Quello ha fatto Il commento Non prendi Cazzo Sulla lana Neanche funziona Come si raccatta Come si può raccattare Allora Siamo a Meno 23 A meno 23 Ah no Ma sto tornando indietro Siamo a Meno 23 Potremmo Scaricare un pochino Tipo qua Di nuovo Per vedere Perché Le terre dello Skulk Non sono Una massa unica Oltre la quale Non c'è niente Ma O meglio C'è un altro bioma Ma Terre che Intersecano Più biomi E qui ci facciamo Il solito giro Praticamente Ci facciamo Il solito giro Siamo a Meno 24 Quindi Andiamo di qua Non ci basterà mai E io tra l'altro Non so dove sono Temo che il perso Verrà presto fatto Perché io non so dove sono Non pensa Questo non era Un suono Da sorvegliante Però mi sta per finire Tutto il pisello E non ho trovato Per niente Ferro E questo è il problema Ragazzi E toccherà Fà la ricerca Del ferro Speriamo Forse potremmo Fare dell'intelligo Visto che tanto Non è che si trovi Solo a meno 50 Scavare Per un po' A questa altezza Dovrebbe essere Quella del ferro Perché l'oro e il ferro Si trovano vicini Perché se finiamo Questo piccons Noi dobbiamo Ricercare il ferro E se dobbiamo Ricercare il ferro Senza trovarlo qua Vuol dire Farci Tutto il percorso Indietro Però lo stesso Dobbiamo fare Anche senza Cabons Non abbiamo neanche Il cabons In ogni caso Ci conviene Non andare troppo In basso Perché se troviamo Cabons Barra ferro Rimaniamo qua No Non ho il legno Devo comunque Tornare indietro Devo comunque Tornare indietro Non ho il legno Scaviamo Scaviamo qua Perché non ho il ferro E quindi il problema Si pone uguale Però Non posso Continuare l'esplorazione Speriamo di trovare Cabons Ma in realtà Cabons non serve Serve solo ferro Serve solo ferro Prima che sia Troppo tardi Cento Garba poco Andiamo un po' Estendiamo L'area di ricerca Speriamo Ferro di prego 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 Quanti stiamo? La metà Niente No ferro No ferro Nessun tipo di ferro Allora quando ce ne mancano 20 Torniamo indietro ragazzi Perché E quindi dobbiamo fare poi Dei piccons di pietra Che coglioni Visto ho fatto una grafichina strana Niente Impossibile avere ferro Acqua Per acqua Dov'è questa acqua? Dov'è questa acqua? Qua forse In questa direzione Mi sembra in questa direzione L'acqua Non so se riuscite voi a avvertire L'audio 3D Magari poco più su Quanto stiamo? Cazzo 10 Porco Dai ferro adesso Ferro adesso Dai Non so se riuscite voi a avvertire Vabbè Torneremo qui tra poco Il tempo di capire come cazzo Torno a casa Io non ho idea di dove sono Non ho veramente idea di dove cazzo Mi sono andato a buttare Ah ok 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 C'è una scala Quindi Linea di massima La devo seguire E poi Credo 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 di venire da qui ragazzi Sì sì Oddio sì Eh no Non lo posso scavare col pisello Ma cazzo Ma perché non l'ho fatto prima? Ma perché mi puzza il cazzo così tanto? Ma scrotale vacca di merda che sono Vacca Gary Pieno di ferro là Vabbè dai Va bene Va bene Dobbiamo fare un po' di carico scarico Qui facciamo così E qui facciamo così Ci creiamo anche dei dammi Che la pietra farà un po' più lenta Ma almeno La facciamo più spesso Ok E tutta sta altra pietra Però la buttiamo via Com'è che mi va Hai detto? Nera Q Rotella? No Che cazzo ho fatto? La rotella ho messo apposta Alt? No Non mi ricordo più ragazzi Scusate Via 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 Vai Ok Scrotal situazione Devo dire però Che la puntata di oggi Nonostante attualmente sia priva di ricompensa E mi sta rilassando oltremodo Mi sento in una situazione di controllo In una mappa ostica E quindi sto bene Perché dico Non mi fa paura niente Ora però Io cerco il baratro Ma prima cerco il ferro Dunque Vai Ne vogliamo Tutto quello che c'è Aspetta Facciamo una Zona di scavo Terro Vai vai Golden shower Silver shower Vai Tutto in bocca Mi sento proprio rilassato In un posto che fino a qualche puntata fa Mi faceva paura Basta 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 Andiamo a fare Un paio di cazzi Ce li mettiamo nel culo Lignetti Ok se non c'è Con me Però mi serve Cabbons Perfetto Mezzo Basta Pi Pi Piripi Sta lana Mi è servita Una minchia Il resto Tengo tutto Ok Questa merda Vai E ora facciamo Par di picco Un sdefero E poi andiamo Ragazzi Si è trovato una minchia Cioè non si è trovato una minchia Bonito Vai Uno Ne facciamo tre Ne facciamo tre Un altro Facciamo il triplo piccons di pietra E il triplo piccons di Man of Medallo Si è trovato Niente Ma Non è ancora fiducioso sinceramente Porto anche il polletto E però Almeno tre di questi bastoncini Intanto li convertiamo in torce Stanno finendo Ancora la musica Eccoci qua Poi Vai Bastoncini Pronti via Pipo 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 tacco Vai Tutto nel culo Questo lo prendiamo Questo lo buttiamo via Questo lo possiamo Ciao ciao Tinky Winky Ovviamente l'ho ripreso Vero? Ok Tentativo Numero Mille mila Mille mila Oddio Stavo morendo Malissimo Vai Vai Dov'è? Vai Allora dove stavamo andando? Dove stavamo andando? Dove stavamo andando? Non me lo ricordo più di qua Mi sa Perché stavamo andando di qua Mi sa che stavamo andando di qua Vero? Sì Mi pare che le coordinate siano giuste Mi pare che stessimo schiavando così Ci vuole un po' di più Però Faccio con quello di ferro Il primo di ferro lo voglio usare Devo pensare se c'è un modo più carino per scavare a 360 Ti ho messo un altro d'altro Però Perché così non troverò mai diamanti e cazzi e mazzi Non mi guarderò mai tutto intorno Potrei perdermi delle cose qui Potrei perdermi delle cose qui Potrei perdermi delle cose sopra E ovviamente sotto Però ovviamente più scavo intorno a me Meno durano i piccoli Farei la tecnica dell'un po' avanti e un po' sotto Che così cerchiamo dappertutto Eh no, quello che è tra l'altro Perché il punto è questo La scelta è Nel min maxing Tra Usare Il piccons per allargare la nostra veduta E trovare più pietre Oppure fare un tunnel singolo Dura molto di più il piccons Però mi perdo tutto intorno E' anche vero che le venature sono grosse Se sono grosse Non lo so O facciamo una youtube Turnata pazza E da queste gallerie grandi Che abbiamo creato Le creiamo Cioè adesso facciamo un tunnel singolo Però a quel punto lo facciamo davvero Uno in avanti Uno in giù E ora stiamo a meno 25 Ok, facciamo così Tre in avanti Tre in giù Così mi sento un po' di guardare dappertutto Uno Due Tre Va bene Adesso in avanti Uno Due Tre E ora Uno Due Tre Va bene Uno Due Tre Buono Niente Ragazzi non c'è nulla Sto per rompere il cazzo Non c'è niente C'è di nuovo niente Siamo a meno 31 E non c'è una minchia di nulla Però c'è la musica Andiamo prima a vedere se troviamo un altro Bioma Attaccato Di scalchi Invece di tornare Troppo in basso Dove c'è la roccia indistruttibile È l'unica altra Alternativa Che mi viene Cercare Un altro Sbocco Perché siamo ancora Lì Sennò non riprodurrebbe La musica Però Però Non so Magari c'è uno Spawn particolare Di questo posto Tra i tanti posti Di scalchi Carino Carino E questa si trova a meno 30 Questa si trova a meno 30 Scaviamone un po' Per la quest La direzione che stavamo seguendo era questa Per evitare di committare in 47 direzioni diverse Quindi andrei così Più o meno Così povero però Mi piacerebbe che Ripartisse Mi piacerebbe che ripartisse La musica Tutto stavo Uno stack me lo farei Gli altri Scheggia quanto dà Scusa T4 Non so se me lo accollo Una scheggia intera Di strano Sono completamente diversi Quasi fatto lo stack Manca E' il primo picco Non si va via Dicevo se ripartisse la musica Avremmo La certezza Ah no ce l'abbiamo la certezza Siamo ancora Scalkeville Siamo semplicemente molto in basso Quindi per ora Possiamo poi continuare nella direzione prestabilita Non andrei su Per un semplice motivo Non sappiamo se c'è un somato Non è safe la risalita Non è safe L'abbiamo fatta una stack No pure troppo Basta Una stack di questi Vabbè dai Si dai Si sa mai Dai dai Facciamo le cose per bene Metti che poi servono 64 di quelli Per fare il cannocchiale Perché sto usando quello di ferro Perché mi puzza il cazzo 40 Dai non ci si mette nulla 44 Bella merda Niente Finito tutto Aspetta Eccoci Direzione ecco Desta Allora lo scalke c'è ancora Quindi in teoria Siamo ancora in zona tranquilla Però mi piacerebbe Trovarmi nella situazione di prima Dove Buchiamo E Vedo dove vado Perché se non vedo dove vado Risalire E' troppo rischioso Vecchiamo il mostro E L'ho già allertato un po' di volte Quindi non so quando Comincerà a essere arrabbiato Ma Almeno Due Ti prego Almeno due arrabbi Gli ho fatti fare Però questo vuol dire Che siamo veramente vicini Guarda se buco qua No Perché quello non è Ho capito Ho capito Continuiamo di qua Il coso verde che vedo Non è un Un blocco È il suonino È il suonino Che viene magnetizzato Verso dove No Probabilmente È dietro Probabilmente È la zona che vedevo dietro Lo vedo che viene verso Qualcosa Che probabilmente È la zona Skull Extra Qui è safe Perché noi non stiamo Magnetizzando Bene Godo Meno quanto 32 Mi chiamo allora Per una volta Di mantenerci Allora Di mantenerci relativamente Bassi Cioè relativamente Alti Scusate Una torcia qua Se no si perdiamo Porco Dove mi porti Bello Ok Eccola la zona Che vedevo Eccola la zona Che vedevo Mi piace Dove essere abbastanza Diamantina Ah È la zona Lavica un po' Più grossa Delle altre Vediamoci un torciame Aspettate un attimo Non sono sicuro Di aver fatto Il corretto Torciame Per arrivare Arriva Come me lo sono perso Non posso neanche mettere la torcia Perché non lo sto vedendo Dove è Eh potrebbe essere Lì dietro Non so dove si è emozionato Però andiamo Quatti quatti Eccola la torcia 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 Facciamo un puntino, tanto di pietra ne abbiamo in quantità, e tanto non stanno allertando nulla, guarda la, altezza, meno 52, siamo di nuovo belli bassi, potremmo fare una ricerca diamantina al volo, tra l'altro la potremmo fare così senza sprecare, siamo bassi, secondo me altezza diamantica, cazzo eh, eh, bastonosa ne basta, cazzo eh, eh, bastonosa ne basta, cazzo eh, cazzo è nulla, direi di risalire meno 49, se no rischiamo di nuovo di trovare le rocce indistruttibili, ma qui va bene in realtà, con le mani vai, con le mani, che cazzo ragazzi, sì, non ho rinunciato ai diamanti, da cosa l'avete capito? ok, niente, 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 va bene ok, niente, va bene ok, niente, va bene ok, niente, va bene Ragazzi Sto cominciando a cedere Sto cominciando a pensare che non ci sia nulla qui Vorrei tanto leggervi in questo momento Vorrei tanto leggere Vorrei tanto Sapere qual è il vostro umore in merito Vorrei capire Che cosa ne pensate? Ma non lo farò Non lo farò perché L'essenza di questa blind run È La totale Assenza di influenze Quasi totale perché nelle intro E nell'altro Va da sé che Vi leggo per forza Grazie Tretta minchia Palle godiche fuori misura Esablele È che È ledging nella sua forma massima A questo cazzo di posto È l'inferno fatto videogioco Mi sento tanto Così Vicino A capire perché Un cristiano dovrebbe soffrire Qua sotto a scavare in silenzio In punta di piedi Rischiando la vita Contro il mostro più forte Di questo gioco di merda Ma non c'è niente Ma non c'è niente Non c'è niente È come andare a Luna Park Comprarsi dieci biglietti Per l'autoscontro Darli al tizio Che sta al bancone E il tizio al bancone Ti fa E no Questo biglietto serve Per arrivare All'autoscontro L'autoscontro È un po' più in là E tu Arrivato al quindicesimo Cazzo di biglietto Con il portafogli Vuoto E le palle piene Dici Ma forse Ma forse è una merda Da questo Luna Park Vaffanculo Al massimo Trovo un nuovo bioma Trovo un'uscita Esco dalla montagna Vai Vai Cazzo ho fatto Ho buttato il piccone Vai Vai Non so neanche dove cazzo Sto andando Il ricercatore In ultimo Perde il senno Direttamente Perde la voglia Di agire Di Dai 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 Rivelami qualcosa Skulk Fammi vedere Fammi vedere Dai Dai Mi siete Dai 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 Al massimo Mi fai uscire la montagna Dai Mi va bene anche questo Quanto sto Quanto sto basso 48 Ok Mi tiro un po' su C'è problema C'è problema Piuttosto esco Mi sono rotto i coglioni Voglio trovare qualcosa Che sia anche solo l'uscita Da un'altra parte Vai Quanto sta Quanto sta Mettiamoci a 40 Ci piace Usiamo il piccons Di pietra Finchè non si rompe Che ore sono Mettanotte e mezzo Tra l'altro Voi non Non lo potete ben capire Ma Questo è un discorso serio Che vi faccio Non leggendo la chat Voi pensate che il problema Sia essere blind Ma non lo è Non è questo Il problema di non leggere la chat È Tradire Lo stesso concetto Delle dirette E voi mi direte Che intendi dire Seidoni Beh Che intendo dire Le dirette Differiscono dai video Perché il creator Ha un feedback immediato Può aggiustare il tiro A seconda di quello che succede A seconda della reazione Del pubblico Se devo produrre un video Io devo farlo il video Ok Attenzione E poi devo vedere la reazione Una volta che è uscito Mentre in diretta Posso vedere sin da subito Che cosa succede E quindi In questi momenti La chat È la chat di Schrödinger La chat di Schrödinger È contemporaneamente divertita E annoiata Suoni Qui dove siamo Cos'è questo posto qua sopra Quanto stiamo di altezza E che Cristo Sopra cosa c'è? Un'uscita Cos'è? Un altro scalco O cosa? 38 No Corridorio del cazzo Con un altro scalco Di là Corridorio di scalco Ci conviene andare Sempre nella stessa direzione Dove veniamo? Grazie Grazie AB Della sub Grazie mille Da lì Veniamo da lì Veniamo da qua A vero Non c'è No Non dov'altro Resta la sinistra Resta la sinistra Di vita proprio Grazie Maiale Siamo a meno Grazie davvero Delle 5 sabbia in regalo Oro E comunque Mi dispiace mai Non si sta ricongiungendo Musica no Non si sta ricongiungendo allo scalco Per niente No Non ci muoio qui dentro Di qua Di qua non c'è proprio un cazzo Però Non c'è proprio una menza Adesso c'è un percorso carino Altezza Meno 50 Ok interessante questo Questo percorso Mi piace Facciamo Carino Che altro è diverso dagli altri Almeno è stimolante Una torcina Non so come torneremo a casa Non so come torneremo a casa Non ho idea Io ne sono Ho perso il conto di tu Di qualsiasi cosa Le torce ho Porco il demonio Di Dante Alighieri Raga La senti Mannaggia al cazzo Mannaggia la minchia Benedetta Mi caco addosso E sono anche contento Ovunque tu sia Mannaggia Alla mamma di lui Sto parlando proprio di lei Quella che fa rima con Tobia E che a Natale è sempre incinta E cazzo Cazzo Sto andando Grazie The Vespian Shameless Per il Sedicesimo E lei è sempre incinta già Prende sempre tutti i regalini Bellini Sì Dei belli Remagi Credo Di essere molto vicino Alla rottura di coglioni ragazzi Ma non solo C'è credo che non tornerò mai più nello skulk Di questo passo Non tornerò mai più qui Avete capito Mai più Dai dammi la musichina Dammi la musichina qui ed è interessante Dammi la musichina Fammi Va bene Va bene Non esiste che pela le patate Dobbiamo fare non esiste che pela le patate Va bene Va bene L'unica tecnica Va bene Va bene ragazzi D'accordo D'accordo Io sono condannato a stare qui dentro Perché non trovo un'uscita Va bene Io anestetizzo il mio cervello Non sono più una persona Non sono più un ricercatore Non sono più una mano che regge un piccone Non sono più un videogiocatore Non sono più una scimmia Che ora è diventata un uomo Non sono niente Sono aria che si sposta Sono il movimento meccanico Dell'avanti e dell'indietro Del sopra e del sotto Sono il rumore Le pietre che si spaccano Sono la vita La poca che rimane di grosset Ma non sono nient'altro Non sono sicuramente più un essere pensante Devo semplicemente andare con la corrente Devo semplicemente continuare a spingere Non so dove sto andando Sono niente Non devo più pensare Sono il ferro che batte la pietra Sono la forbice battuta dal sasso Sono disperato Sicuramente E se fossi qui per mille anni Ad affrontare la mia claustrofobia Non apro neanche più le coordinate Allora Sono ieri E a new create A destiny That you've been dreaming of This mess You're in This mess You're in This mess You're in A voice Called out to you Strange how Dio fai apparire qualcosa Qualsiasi cosa Un pezzo di rome Quals- Una bara di ghiaia adesso Spero stiate ascoltando le lyrics C'è un motivo se l'ho messo Dove sto andando? Cosa sto facendo? Chiudi sto cosa Ragazzi è inutile E' inutile E' inutile E' inutile Tanto prendiamo la search E' inutile E' inutile E' inutile E' inutile Mi sto facendo guidare dalla musica Non so più cosa sto facendo ragazzi Non c'è neanche più lo skulk E ho otto torce E quindi tra sette torce dobbiamo tornare indietro No aspetta che fai No no Sì 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 va bene Sì va bene Sono una talpa Sono una talpa Sono una talpa neospaziale dei cazzi In culo Questa cazzo di ciaia Questa cazzo di ciaia Finchè non posso Cioè finchè posso non usare E' qui per un torcega ce lo dobbiamo mettere Oddio E' palesemente La direzione gotica Oddio ancora 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 C'è pure il ferro C'è pure il ferro Ragazzi Ragazzi è diegetico Undertale In qualche modo In qualche modo Eh no però adesso non posso andare dritto di uno Però no non è vero Proprio perché ho trovato i diamanti non ce ne so altri Andiamo dritto di uno Al massimo troviamo altri diamanti a questo punto Al massimo Facciamo una scavata diamantina raga Raga Non si può sbagliare Non si può sbagliare Al massimo è una gran Scavata diamantina Siamo a Meno 52 Non stiamo trovando la droccia indistruttibile Grazie vafflo del ride Al massimo troviamo un botto Al massimo raga Ce ne torniamo su ricchi sfondati Facciamo Ruslan 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 ha perso il cervello probabilmente Per arrivare fin qui Salute di uno c'è un cazzo non c'è un cazzo non c'è niente o tre torce e un piccone no poi c'è anche quello di pietra in realtà dove stiamo andando ragazzi stiamo andando usciamo fuori dal monte siamo in un altro monte eh devo stare nel buio raga se voglio sopravvivere il più possibile finchè si vede quella torcia devo continuare ad andare non importa andiamo ok ma non mi sto perdendo diamanti però così non sento più la musica dello skulk sto sbagliando a mettere musiche per conto mio spero toglierlo è l'unica cosa che mi dà grazie It's Lindy della Sabi Regalo grazie a tutti sono un essere non pensante Santa Luce dei Macelli grazie altri 20 di questi abbracci no c'è niente no c'è niente ragazzi ragazzi un'altra torcia la metto non c'è niente non cazzo mi sa che dallo skulk ci siamo allontanati e mi sta anche bene stiamo a eh però non allora da una parte penso che se salissimo troveremo una via d'uscita però in teoria possiamo anche bucare un monte dalla base no? però no meno 52 probabilmente è miniera dappertutto perché il punto è ormai voglio uscire ormai sto uscendo e va bene ok l'uscita più disperata e assurda della mia vita su Minecraft oddio perla tutta la volta altro ferro te tanto lo premiamo grazie grazie Dreo della sabbia in regalo immagino sia un modo per dirmi di continuare ma ancora si vede di uno in alto voglio andare ok perfetto grazie Crystal Spider dei 100 bits tanto ormai non ho scelta se continuare o meno sono lanciato in questa cosa fatemi fare questo però tanto vedrai raga finiti i picconi bisogna andare via quindi e le torce grazie maiale pingue della sabbia non c'è niente c'è niente c'è niente le ho provate tutte le ho provate tutte ragazzi non c'è nulla a parte che non c'è più lo scal perché non l'abbiamo mai più trovato meng grazie delle 5 sab immagino che qui ci sia i titoli di coda a questo punto se continuo ad andare avanti va bene grazie cold masso della della sab grazie davvero ci avrei creduto mai ragazzi quindi siamo ancora nello scal devo sentire i suoni devo metterli di Dio Bablub ho esagerato lo so che è esagerato lo so lo so è un testo diverso dagli altri interessante forse stiamo trovando la fine di questo bioma all'inizio di un altro di miniera no non è vero non c'è niente mi rompe i coglioni non c'è niente andiamo scavando aspetta facciamo un dump di merda grazie un dump di schifo grazie e workage ragazzi tranquilli penso mi abbiate fatto capire che il malavori questa è una scala un costello c'è una scala qui ci sono le candele cos'è questo grazie pancake scusami se sono un attimo preso sei ostile cosa sta succedendo che cos'è questo posto le candele c'è la sabbia dell'anima c'è un tizio murato dentro e poi voglio sopravvivere qui dentro esplorare decentemente devo trovare prima i suoni perché farò un sacco di suoni aprendo queste preziosissime belle casse eccolo lì ho visto bene quella è sabbia delle anime ragazzi ragazzi sì grazie la prima fiamma del ride eh sì è quindi questa non so è un cimitero credo sia un cimitero però di qualcuno che aveva accesso alla a Thesorg è un posto stranamente silenzioso pieno di skulk è pieno di skulk sia nei morti che hanno prodotto questa cosa cazzo 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 allora questo è un cimitero però sembra davvero il luogo di un rito satanico magari è c'è una lanterna grazie Matteo Ghio dei dieci abbonamenti in regalo grazie mille siete impazziti mi sta piacendo molto il fatto che sia arrivato qui ci sono delle delle lanterne questo posto è grande ci sono delle scale qua sotto devo cercare quanto meno di stare lontano vorrei aprire quelle casse ma grazie a Xeldef delle cinque sub in regalo mi trovo questo posto enorme non è semplicemente un cimitero quella era la zona del cimitero con i ceri questo è un posto più grosso è il posto più grosso che abbia mai trovato a livello di struttura cos'è? cos'è? è assurdo ma che ore sono? ma sono le una no io non voglio esplorare a cazzo di cane questo posto mi sa che per la prima volta chiudiamo non tra poco voglio ancora stare qui dieci minuti voglio anche esplorarlo bene devo farlo in punta di piedi ma con la giusta freschezza vedo un catalizzatore a ore 12 questo non lo è le luci le lanterne dello stesso colore dello skulk mi fanno pensare che questo non sia un posto invaso dallo skulk ma origine cos'è? pensavo fosse una scalinata tipo quelle di Elden Ring sono costruzioni assurde comunque questo posto mi mette i brividi no joke ma che cazzo è? ma è gigantesco pensavo fosse un cimitero è tipo un enorme tempio non c'è musica non c'è niente è pieno non ho mai visto così tante zone concentrate di catalizzatori cosa non voglio che io do? perché è così pieno di merda? perché mi vogliono ammazzare? cosa cazzo è questo? non capisco sembra una struttura di Tears of the Kingdom non voglio fare spoiler ma che cazzo è questa roba vedo anche una luce viola da lontano guardate lì che cazzo è? no l'ultima torcia porco no me la devo portare in mano l'ultima torcia Cristo sono pieno di stimoli cerchiamo di guardarmi intorno c'è una cascata dov'è la roba viola che avevo visto? per me male gli occhi però purtroppo per cose belle ok qui forse siamo safe c'è un sensore apposta no apri coglioni no non si apre non si aprono la devo rompere? se in questo posto non si aprono si possono solo depredare ma che cazzo? una bussola una targhetta una posizione di rigenerazione un disco musicale una candela un frammento disco e infatti ho visto che potevo creare un disco ma soprattutto sensore di skulk sono loro è questo posto che ha creato lo skulk non c'è dubbio ce li hanno nelle casse l'ho avvelenato tutto dubito a questo punto che sia per i soli diamanti avevo visto però un bellissimo una bellissima luce viola vorrei capire che cos'è e ovviamente sono già le 1.10 non voglio staccare ma che cazzo dov'è la luce viola? l'ho vista sono sicuro di averla vista ho visto potete posso? no? si accende? allora ho preso una candela fottiti e si devono solo rompere questi cos'altro carino però avere la bussola come copritemi di diamanti scheggia di risonanza gambiere di diamante indistru... dove cazzo siamo? raga dove cazzo siamo? cos'è tipo il vero regno dietro e gobalego mettitele subito ho preso dello skulk? oddio si ho preso dello skulk quindi si può prendere al di là dei trick cosa avete fatto? allora forse è per la produzione diamantina cosa avete combinato qui dentro? merde cosa cazzo ho preso? non capisco più cosa sto prendendo oddio un libro passo felpato bello passo felpato magari non devo non devo crauciare se riesco a capire come cazzo mettere gli enchant oddio una zappa di diamante con tocco di velluto ed efficienza 5 col tocco vellutato io come faccio a tornare vivo indietro? mio dio io ho messo una luce viola era in alto ma non so quanto in alto il problema è che scalare è difficilissimo in una situazione nella quale devi camminare sempre con le palle nell'ano un'altra cassa è dove c'era il doppio che è stato un'altra cassa Allora facciamo una prova, facciamo una prova, la facciamo qua, non ha effetto sul suono, si attivano comunque, però vanno distrutte queste, la cassa lì non la posso prendere, cos'è? Pappeto c'hanno, cos'è? Che cazzo è sta roba? Cos'è? Cos'è? C'è un'enorme finestra nel fuocherello sotto, nei nostri vecchi tempi, ma dove porta? C'è un acciarino dentro. Ah! Vorrei prenderlo dalla direzione giusta, non capisco cosa sia. Cazzo? Cazzo? Vorrei capire se posso droppare quella testa. Cazzo. Cazzo? 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 cose? Pimbullano, dimmi di più, ti prego. droppando dammi un'info su cosa è questo posto per favore che cos'è teschio di schede posso mettermelo in testa si ora sono come voi ora sono come voi dai ora non potete attaccare ora sono come voi ragazzi sono ne venti Dio Cristo Cristo Dio Cristo ragazzi non posso chiudere la strada assurdamente c'è quindi in qualche modo tornare qui sarà fattibile ma grazie a tutti La sentiremo 90 volte No 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 Vado piano scusami 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 Dove cazzo vengo Dove sono entrato Devo tornare alla cassa con i due cazzi Perché i due cazzi erano vicini al culo Questa cosa non significa niente per voi Ma significa tutto per me Io sono entrato e ho visto i due catalizzatori Con la cassa vicino E prima c'erano le candele Ho detto è un cimitero Ma poi non era solo un cimitero Devo ritrovare il cimitero Dove cazzo è il cimitero Devo trovare le candele Le candele sono la via di fuga Per tornare a casa Devo trapassare come i morti Fine Ho visto questi blocchi Ho visto questi blocchi Sono entrato da un tunnel E questa? Questo è il cimitero Questo è il cimitero Questo è il cimitero Sono sceso da lì Questo è il cimitero Oddio ragazzi Ragazzi devo usare tutto il mio potere D'orientamento che non ho Io devo portare i gambali diamantini a casa Lo skulk E tutto Dio mannaggia Se mi sto cacando addosso No Non fare rumore Non fare rumore Dove? Dove? Lì dentro Qui dentro Perché vedevo questi blocchi Qui dentro Io credo Che sia questa La strada Due in bocca Uno nel culo Stiamo bene No No Quello nel culo Salta oggi Cazzo scavato Di qua Ragazzi mi metto a piangere Se torno vivo Io mi metto Genuinamente a piangere Se torno vivo Io non torno Io non torno Giung�� cre Sicko Una Noel La terzyma Questa è il mondo Questa è il mondo Torno Devo trovare la strada, non mi interessa Ho messo la versione da mezz'ora per farvi capire quanto voglio tornare a casa No, questo era il sinistra-destra Di qua Tutte le strade sbagliate mi stanno guidando, è assurdo Mi sto orientando per tutte le strade sbagliate Oh Allora 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 Sì, sì, sì. Sì, è il punte che ho fatto io, è il punte che ho fatto io, è la torcia in più che ho messo per ricordarmi che il punte l'avevo fatto io, chiaro, sì. No, io non è che torno a casa, ragazzi, io sono già tornato, io sono già tornato. Avete presente il senso dell'orientamento che sta per mandarmi a puttane ma si rifiuta di farlo? Ora arriva la parte difficile. Ora arriva la parte difficile, la risalita vera. Potrebbe essere questa, perché noi da qui siamo arrivati, noi questa voragine l'abbiamo vista, quindi credo che sia questa la strada. Ok, non era quello che mi aspettavo. Mi aspettavo. Dio mio! 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 ne apre nessuno! Butta via le robe che non servono, raccogli le cose utili, presto torneranno i cazzi, butta le ossa, piglia il cazzo, butta la merda e piglia il culo, ciao! Più o meno, queste sono quelle che ho messo io, quella invece era ancora qua, la prenderemo poi, la prenderemo poi, non importa, non importa, non c'è più un cazzo qua, ciao! No, no, non è possibile C'è nessuno? C'è nessuno? Non c'è nessuno? E non solo sarei molto attenti, dove cazzo è l'uscita? Qua? Ma io il barra tra l'ho visto, non sono andato qui, questa era l'altra strada No, no, non è possibile Maybe No, non è possibile Allora io questo baratro l'ho visto E ho fatto il ponte La torcia successiva era questa Quindi Cosa mi volevo dire? Cosa volevo dire al Saidonia del passato? O meglio al Saidonia del futuro Questa è la torcia Che ho messo Poi? Poi? Dov'è la seconda? Dov'è l'altra? Dov'è l'altra? Dov'è? Dov'è? Quadritto? Semplicemente quadritto? No! Perché qui non c'è niente Non può essere Cosa è questo? E non questo? Sì dove ci sono i cazzi Ma magari quest'altro È l'unica È questo qua È questo qua sopra È l'unica Paura di fare qualsiasi rumore ora Ma quindi sono così stronzo Che non mi sono fatto una scala Ho messo Una torcia buttandomi Ti prego Ti prego Ti prego Non dirmi che c'è un'altra cosa strana Sì Ho visto una torcia Direi di sì Sì Oddio Sì 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 La musica La musica Salta 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 Dei saltare Dei saltare Dei saltare Dov'è puttana Ok Devo committare dritto Mi dissi Avevo ragione Qui non c'è rumore che io possa fare Non lo so Camminiamo piano Sono quasi le 1.40 Il mio cervello è completamente fritto Il mio cervello è completamente fritto Ma quanto cazzo ho scavato Ma perché ho fatto tutta sta strada Ma dove sono? Quello che penso Quello che penso Alla prossima Alla prossima Aspettate, qua me lo scorderò Facciamoci un pisello Così so che devo passare in mezzo alle palle Se voglio tornare, perché sennò vado di là la prossima volta, ne sono sicuro C'è lo lunghissimo Ora di fare rumore Ora di fare rumore Grazie Mi c'è caso Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Ho vissuto tutta la tavolozza delle emozioni della quale la divinità che ci ha abbandonato ci ha dotati in fasce. Ho dipinto tristezza, gioia, dolore, sorpresa, disperazione, perdita di ingegno e ritrovamento dello stesso, orientamento, disorientamento, piangere, ridere. E abbiamo trovato qualcosa della quale non sappiamo niente. Probabilmente ci sono altre mille miliardi di casse giovedì, le andremo ad analizzare, andremo preparati. Ma ormai la spada è stata creata, i pantaloni diamantini sono indosso. E quel posto lo possiamo ritrovare. Quanto ci è voluto? Quanto ci è voluto? Vi devo liberare, non me ne fotte un cazzo, basta. 3, 2, 1, vi voglio leggere. Non riesco a prendere la finestra di OBS. Ok, ora ce lo fa. Ciao! Ciao! Tutto questo è incredibile. Ma che cazzo è successo? Però, ve lo posso dire, voi lo sapevate, lo sapevate di sicuro che lì c'era questa cosa e chissà quante ne esistono sottoterra in mezzo allo Skullc. E io stavo arrendendomi, però poi è arrivata quella pioggia di Sabba a un certo punto e ho detto, lo stanno facendo perché vogliono che continui. Mi sono fidato? Quanto ci è voluto? È una storyline incredibile, siamo scesi in mezzo all'inferno e abbiamo trovato il demone sorvegliante che ci ha scopato anche le orecchie, fino a che non abbiamo compreso che le orecchie erano la risposta. E abbiamo gattonato, come nell'enigma della Sfinge, gattonando, abbiamo compreso che la strada per crescere è ricordarsi da dove siamo venuti. Perché abbiamo quattro, Zamp, all'inizio, poi due, poi tre. E sapete perché ne ho tre ora? Perché ho il cazzo duro. Non perché sono anziano, perché quel posto è pieno di segreti ed è l'origine del male. Sì, assolutamente badge, ragazzi, assolutamente badge. Aria condizionata. Che cazzo è l'aria condizionata? Quella era l'aria condizionata? Non mi... Ma perché? Non c'entra niente con l'aria condizionata. Ragazzi, il posto meno aria condizionata è l'unico. E' questa. Questo significa che da Ginellano ci arrivo comunque, in qualche modo. Poi capirai. Non puoi aprire le casse da città. Ah! Ah, quindi non sono casse speciali, semplicemente sono un coglione. Vabbè, dov'è la novità? Nessuna parte. Madonna, che live, ragazzo. Sono completamente... Mi sentivo così da... Diritto penale. Sto tramontando. Perché siete ancora in 2000 persone alle... Due? C'è l'uncazzo da fare? Vi do il badge. Però nel senso, vi voglio bene. Cioè, sappiate questo. Perché comunque siete in 2000 persone alle due di notte. Quindi o faccio ASMR o... È assurdo. Momento creato. Badge distribuito. Arriverà a tutti voi che siete collegati in questo momento. Per chiunque ci sia stato questa sera, il ricordo indelebile è chiaramente quello della determinazione. Siate determinati nella vita. Inseguite... Sempre quello che vi piace, scherzi a parte. Perché se sono a fare questa diretta... Qua... È perché ho cominciato a fare video quando il mondo mi stava crollando addosso. Purtroppo non è uno scherzo. Forse anche allora ho scavato dritto. Senza pensare. È stata così. Ragazzi. Grazie di esserci stati. Veramente... Veramente preziosa. Si è fatta notte. Quindi direi... Che ci facciamo un sonnellino. Salviamo. Anzi. Ci guardiamo. Antagonista e me ne compiaccio pagliaccio di ghiaccio. Daremo giovedì un nome all'aria condizionata. Non ho ancora trovato l'ispirazione. Qualcosa mi era venuto in mente ma non me la sentivo. Me la devo sentire. Ci torniamo la prossima volta. Giovedì la prima cosa che facciamo. È l'unica. Pioggia di cuoricini anche per voi. You're special. Ragazzi. Bel momento. Siete carini. Molti. Dai. Smettetela adesso. Oversharing. Il mio. Grazie. Ragazzi. Basta. Non mi merito tutto questo amore. Grazie. Spero vi divertiate. Io mi diverto. Non ho fatto niente. Non ho scoperto la pennicillina. Ho trovato un dischetto dentro un posto dei videogiochi. Però mi sono divertito. E immagino che questi cuori non siano per il gioco ma per i momenti che passiamo insieme di divertimento e condivisione tutto l'anno. Del resto eravamo lì a Parigi a cadere su four guys e non ce ne fregava nulla. That's why. Buon ragazzi. È tempo di lasciarvi all'auto. Devo dormire ma... Siateci. Andate via. Grazie GG delle sub in regalo. Siamo arrivati a 2800 sub al 12 del mese. Cioè fatevi i conti. In 12 giorni sono arrivate 2800 iscrizioni. Wow. Come direbbe il mio nonno quello giapponese. Ecco questa. Buonanotte reggez. Ci vediamo domani con lo spacchettamento. Se mi riesce di montare la camera. Perché ormai essendo rimasto qui da solo devo capire. Quindi ci riesco a montare la videocamera. Degli spacchettamenti. Qualcuno mi aiuti. E poi... Ci vediamo... La sera a 21.30 con le cassette. Siete... Speciali e simpatici. Buonanotte. Fate i bravi. E non facciamo ripartire la sigla. Sei donna di merda. All'auto. Va bene? Ciao. Ora vi saluto davvero. Vabbè. Ciao. Giusto. Le sub. Vado. Finché dura l'auto io leggo. Venomize. Simo. Secondo mese. Trivellox. Sanchez. Quarto mese. Ammazza lunghino questo placement. Dice Forza. Mio babbo. Tredicesimo. Boh. Un mostro. Xino. Tredicesimo. Grande Saido. Mi hai fatto piangere di tristezza e anche di gioia in questa live. Vale anche per me. Mikko. Ottavo mese. Mio padre. Saidonia. Non lo so se mi sento un padre. Dato che non riesco neanche a... Come dire? Badare a me stesso. Facci provo. Gallo Samu. Secondo mese di tier 1. La scimmia è diventata uomo. Grazie. Mickey Matrix. Sub in regalo. Tulo 89. Regala una sub. Grazie. Stranged. Diciasettesimo mese. Forza. Ake. 406. Quindicesimo. Fuji Scimmia. Ozrik 93. Una sub in regalo. Gallo Rinic. Quindicesimo di tier 1. Arrivo solo ora. Era mezz'ora fa. Botte. Grazie. Prima volta insieme. Sì sono io mi dica. Secondo mese di tier 1. Grazie. Giallo 99. Sesto mese di tier 1. Pazzesco. Boom. Lazy Hero 99. Settimo mese. Axel Def. Quinto mese. Non è vero. Ha regalato 5 sub insieme a Matte Gyo che ne ha regalate 10. Ecco qui mi stavate guidando. Danix. Quarto mese. La prima fiamma. Ha raidato al tempo. Un'ora fa. Honey Grabber. Ventottesimo. Domani un esame. Ma sti cazzi sta tutto incassettato e cubico. Bocca al lupo bro. Shion 5. Un anno insieme. Un anno con questa serie e questa live. Non potevo chiedere di meglio. Neanch'io. Mr. Plankake. Una sabbia regalo. Il generale Badullo. Una sabbia regalo. Wargage. Tre sabbia regalo. Akimo. Ventiduesimo di tier 1. Sono arrivato tardi ma recupererò. Buona live. Bro. Non hai idea di che cazzo hai appena recuperato? Sì che ce l'hai. L'hai appena recuperato. O non saresti arrivato qua. Ryu Outsider. Un anno insieme. Carpakoi. Regalano a sabb. Cold Masso. Decimo mese di tier 1. Grazie. Emeng. Cinque sabbi regalo. I am Borto. Ventunesimo mese. Grazie. Maiale Pingue. Regalano a sabb. Crystal Spider. Cento Pizzini. Dreu. Regalano a sabb. Diciassette vincio. Tredicesimo. Sai dove devo congratularmi con te. La serie di Minecraft è tutto quello che ne è derivato. È un'esperienza che descrivere come unica è poco. Pensa quando faremo il concerto signori. Emilio Mac. Ventesimo. Franfil. Quattordicesimo. Santa Lucia dei Macelli. Ventesimo di tier 1. Altri di questi 20. Abbraccio i miei cari. I Zlindi. Che avevo vista. Regalare una sabb. Grazie. Un abbraccione. Frost vinci. Scusate. Questa parte è la mia preferita dell'outro. Non posso parlare. Ok ora posso. Wafflo. Grazie. Axel Def. Gelatosamente gufo. Scimmia. Credi in te. Segui il tuo istinto da esploratore. C'è qualcosa di incredibile da scoprire. Ne sono sicuro. Lo sapevi. Giusecottero. Prima volta. Piggy. Grazie. The Dispian Shameless. Daniel Mack. Maiale Pingue. Gresil. Aby. 22 Andrew. 22. Go on. Brave King. Famuccio 65. Raccettina. 45esimo. Tripta minchia. Terzo. Palle godiche fuori misura. Grazie per questi tre mesi di neuroni perduti. Oh ma vaffan... Ti voglio bene. Francesco 23. 48. Zero. Terzo mese. Lord. Grantham. 82. Secondo mese. Gregio Camillo. Terzo. Sono tredicesimo di tier 1. Sono cubiche. Giusecotom. 24esimo. Quindi due anni di tier 1. The Lone Owl. Un anno. Quaqua Walter. Settimo mese. Sono arrivato. In realtà ce ne sono altre. Che ringrazio. Ma sta finendo l'outro. E anche l'autonomia. Grazie a tutti. Del supporto che mi date. Ogni giorno. Ogni anno. Ho passato un terzo della mia vita. Come personaggio su internet. Che è una definizione che odio. Però come membro di questa community. È la definizione che amo. Buonanotte. Grazie.